Esistono diversi modi con il quale possiamo creare e soprattutto configurare una React application. Sicuramente il più diffuso e sicuramente il migliore per coloro che iniziano a sviluppare e ad imparare ad utilizzare la libreria React è utilizzare il comando npx create react app. npx potrebbe suonarvi strano ma non è nient'altro che un comando simile ad npm con il quale noi installiamo librerie, moduli o comunque script di terze parti mentre npx ci permette di lanciare direttamente il comando, lo script, eseguirlo direttamente senza aver bisogno di installarne una libreria. Nel caso voleste saperne di più mi basterà andare sul link che vi lascerò in cui appunto troverete questa pagina che vi darà tutte le informazioni su quello che è effettivamente l'utilizzo e l'installazione e soprattutto la creazione di una React app e diversi metodi che possono essere utilizzati per creare una nuova applicazione. Ma procediamo all'atto pratico. Apriamo il nostro terminale e iniziamo a spostarci all'interno del nostro desktop, nel mio caso, poi volendo possiamo creare una nuova cartella e appunto inserire il nostro progetto all'interno di quella cartella e nel luogo all'interno del quale vogliamo andare a creare la nostra applicazione, la nostra prima applicazione, il nostro primo progetto, digitiamo il comando mpx create react app, seguito dal nome che vogliamo dare alla nostra applicazione. In questo caso, e con molta fantasia, sarà prima app. Lanciamo il comando che farà partire una serie di informazioni che testimonieranno l'installazione della nostra React app, chiamata appunto prima app. Questa parte ovviamente ve la risparmio e ci vediamo alla fine dell'installazione. Terminata l'installazione della nostra nuova React app, chiamata prima app, ci torneremo di fronte a queste piccole indicazioni in cui ci dirà di spostarci all'interno della nostra cartella, chiamata cdprima app, e lanciare uno dei seguenti comandi npm start che ci permetterà di eseguire e lanciare il nostro development server in cui potremo vedere quella che è l'applicazione che abbiamo appena creato e poi modificare e vedere in tempo reale le modifiche che andiamo a creare sulla nostra applicazione. npm run build ci permetterà di realizzare una build statica dei file ottimizzata per essere poi pronta appunto per essere pubblicata. npm test lancerà tutta la serie di test che avremo scritto ed npm hijacked ci permetterà di uscire da quella che è la configurazione che c'è stata data a livello di default dal nostro script create react app e poter intervenire manualmente su quella che è la configurazione della nostra applicazione, andando a lavorare su quella che è la configurazione webpack della nostra applicazione, un qualcosa che comunque non vedremo durante il nostro corso. andiamo quindi a lanciare il primo comando che ci viene suggerito ovvero npm start che possiamo lanciare scrivendo semplicemente npm start oppure anche npm run start. Una volta che avremo lanciato il nostro script si avvierà un server che mi sembra che sarà sulla porta 3000 in cui potremo vedere quella che è la nostra applicazione chiudiamo quella che è la pagina di create react app spostiamoci lateralmente apriamo una nuova finestra diviso da studio code e andiamo contemporaneamente ad aprire effettivamente la nostra applicazione in tutto e per tutto ok mettiamoci in questa posizione selezioniamo con finestra di affiancamento il nostro visual studio code ed ecco come si presenterà la nostra applicazione di default in cui avrà un logo animato con semplicemente un rimando a quella che è la nostra documentazione e invitandoci a modificare un determinato file andiamo subito a svolgere questa azione apriamo una nuova cartella che sarà appunto in desktop sotto il nome di prima app e diamo una veloce occhiata a quella che l'indicazione che ci viene data quindi quello di andare nel file essersi app.js e provare a modificare qualcosa al posto di learn react magari anzi al posto di questo titolo andremo a scrivere ciao sono un'app salviamo e vediamo che immediatamente abbiamo una modifica della nostra applicazione questo è ciò che avviene sul nostro development server abbiamo quindi creato la nostra primissima applicazione utilizzando il comando mpx create react app creando l'applicazione prima siamo entrati all'interno della nostra applicazione abbiamo aperto la cartella che abbiamo creato abbiamo modificato il file app.js nella prossima lezione iniziamo ad avere un approfondimento di quello che il progetto basilare di quelli che sono gli elementi importanti all'interno della nostra applicazione in questa lezione andremo ad approfondire la struttura del progetto che ci viene creato di default da parte di del creator act app per poi essere pronti finalmente per andare a creare il nostro primo componente tutto chiuso il server che avevo lanciato dal terminale nella scorsa lezione così da farvi vedere che è possibile lanciare il server anche attraverso il nostro terminale integrato come fare beh semplicemente apriamo la nostra applicazione vedete sono in prima app control b per aprire e chiudere la sidebar e andiamo all'interno del nostro progetto ci sono due metodi per lanciarli dal nostro direttamente dal nostro dal nostro visual studio con il primo è andare in questa sezione di npm scripts all'interno del quale trovate quelli che sono gli script cosa che non mi fa impazzire semplicemente perché devi sempre fare mille passaggi ti rimangono le tendine aperte non è comodo all'inizio però poi fidatevi che diventerete molto più avvezzi a utilizzare lo secondo metodo secondo metodo altro anche l'apertura del terminale che si può aprire o premendo su questa icona oppure semplicemente con un bel control o accentata vi aprirà il terminale potrete creare un altro terminale avrete diverse opzioni anche la console per il debugging semplicemente ci basterà lanciare npm start anche solo start funziona è un'abitudine di mettere il run che mi porto dietro da tantissimi altri altre interfacce di sul sul terminale vedete ha lanciato il nostro terminale che mantiene la modifica della volta precedente amici di questa nuova scheda andiamo ad esplorare effettivamente quella che la struttura della nostra cartella il terminale a questo punto lo possiamo chiudere e andiamo ad esplorare nel dettaglio la cartella sicuramente la prima cosa da andare a vedere sicuramente il package dot json con quelle che sono le configurazioni con quelle che sono effettivamente le cose che sono state installate come vedete c'è una serie di dependencies che sono contenute l'interno del modus che sono tantissime se voleste vederle tutte potete vederle tutte ma sono tutte quelle che avete installato con la configurazione delle create reakt up qua sono descritti quelli che sono effettivamente i comandi che trovate nell'impiant script che sono gli stessi che sono stati presentati dal terminale al termine di ogni installazione di un creator il reakt up e tutta la serie di dependencies che sono installate all'interno del nostro progetto verrà anche automaticamente creato quello che è un file di di ignore che altro altra funzionale a che farvi scegliere tutti quei file che non volete che vengano caricati all'interno del vostro progetto della vostra ripo qualora la carica sta online su su github su una vostra ripo molto importante soprattutto per quelle che sono le di variable arrivando effettivamente a parlare del progetto e del lato front end all'interno della cartella public trovate quello che è il file html che quello che effettivamente descrive la vostra applicazione all'interno del quale si andrà a creare la vostra applicazione e di preciso tutto quello che noi scriveremo che scriveremo in source e lavoreremo unicamente in source generalmente entrerà all'interno di questo di questo diva con le di brutto ovviamente da qua potete interagire c'è niente niente lo vieta qua possiamo daremo il titolo di scrivere prima è semplicemente andiamo a salvare vedete qua è cambiato il nostro titolino bellino ovviamente questo altro non è che un normalissimo file html non cambia assolutamente niente possiamo inserire dei google font possiamo inserire tutto ciò che vogliamo e che normalmente inseriremo all'interno questo ovviamente non è nient'altro che un normalissimo e banalissimo file html quindi si possono fare tutte le modifiche del caso come il titolo aggiungere dei meta tag aggiungere altri link ad esempio il fonte possiamo aggiungerli in questa sezione niente ce lo vieta è un file html normalissimo tutti quelli che avete visto nella vostra vita fino ad adesso nel momento in cui andremo a lavorare noi andremo a lavorare principalmente su quelli che sono questi file i nomi qua come abbiamo già detto sono totalmente arbitrari app l'altro non fa che contenere tutto quello che è lo styling dell'applicazione che vedete in questo momento quindi sia qua da se mettere un colore a caso tipo questo forse mi ha scappato un carattere semplicemente modifico questo style momentaneo niente di più niente di meno file che può chiamarsi come vogliate app dot gs è quello che effettivamente è la nostra applicazione ed è dove tutti i componenti che andremo a creare insomma interagiranno tra di loro e staranno detto in maniera molto molto banale ovviamente abbiamo un componente unico ma poi avremo una serie di componenti una serie di pagine un router tutto quello che sarebbe per creare effettivamente un'applicazione app dot test è una cosa che noi non andremo a vedere in questo corso index.css altro non è che un file css che possiamo andare a modificare che può chiamarsi esattamente come vogliamo che non importare poi direttamente in quello che è il nostro file di index il nostro file di index è quello che ingetta la nostra applicazione all'interno dell'elemento con l'id di root visto precedentemente nel file di index come vedete contiene l'applicazione altro non fa che importare il file di app e ingettarlo all'interno dell'elemento presente nel file html questo qua semplicemente è il logo che vedete su a destra e questi qua sono due file che non ci interessano ormai siamo veramente un passo dal creare quella che la nostra prima applicazione soprattutto nostro primo componente altro non ci resta da fare che pulire effettivamente quello che è il progetto da tutti i file che effettivamente non ci sono necessari come app dot css che al momento non non ci serve app lot test momento non ci serve logo non ci serve il report what vital se non ci serve al setup test non ci servono semplicemente li andiamo a eliminare questi questi file come vedete non avremo più 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 lo stile il motivo per cui vedete quell'errore perché è stato importato questo signore di cui non abbiamo assolutamente bisogno e che viene chiamato in questa sezione stessa cosa vale per il signor logo che viene qua importato bisogno così come il signor app dot css ma possiamo completamente pulire questa cosa e scrivere un bel h2 ci siamo salviamo tutti i nostri file logicamente la nostra applicazione tornerà a darci dei risultati ovviamente adesso è totalmente scarne totalmente vuota la nostra applicazione eccoci giunti finalmente alla lezione all'interno della quale andremo a creare effettivamente il nostro primo componente che poi ovviamente senza accorgercene abbiamo già creato un nostro primo componente perché il signor app il signor app è un componente che infatti lo andiamo a importare all'interno del nostro file index e ingettandolo all'interno del nostro di root presente il nostro file html ma andiamo a creare un componente e vediamo quelle che sono effettivamente le sue regole che è un qualcosa di molto importante ogni componente ha delle regole che che vanno strettamente rispettate non è possibile non rispettare queste queste regole ci sono ovviamente ne possiamo creare un componente all'interno di questo di questo stesso file e poi inserirlo all'interno di quest'altro componente ma facciamo un passo alla volta io proprio a creare un altro componente da 0 creiamo un nuovo file chiamiamolo componente 1.js in questo file possiamo fare due operazioni sicuramente la più comoda è quella che vi consiglio io di utilizzare è quella che ci viene data da dall'estensione da questa estensione che ci permette di creare in maniera veloce con delle scorciatoie da tastiera molto comode tutti i nostri file in tutti i nostri componenti come se con tutta questa serie di indicazioni vedete potete importare potete importare esportare mi portare cose avanzate utilizzare funzioni insomma c'è di tutto e di più ovviamente il comando più utilizzato e più in voga è semplicemente rafc è che crea un componente con un un arrow function che noi potremo andare a modificare importerà per noi direttamente react e esporterà con default in maniera default il nostro componente che cosa vuol dire esportare maniera di fogli esportare maniera default è un qualcosa che ci permette di rinominare il file dove lo importeremo come più ci pare e ci piace quindi se adesso io andasse a fare import facciamo line up ci permette di importare in maniera col nome che vogliamo il nostro componente quindi si andasse di scrivere import pallina from componente 1 e io qua inserissi il signor pallina io otterre risultato sia chiero che mi pallina che io lo chiami componente 1 ovviamente la soluzione migliore è sempre quella di chiamarlo nello stesso modo in cui è stato nominato il file ottengo lo stesso lo stesso risultato ci sono due modi di utilizzare un componente io posso di conseguenza anche utilizzare questa dicitura in cui lo chiudo direttamente nel momento in cui lo apro nello stesso tag diciamo e ovviamente questo ci porterà lo stesso ad avere un risultato l'importante che il componente venga sempre chiuso un componente non può non essere chiuso se io appena non chiudo componente verrà segnalato da subito errore se per caso provassi a a salvare avrei subito un problema è un componente va sempre chiuso questa è una regola fondamentale che tante volte e alla base di tanti di tanti errori un componente ovviamente può anche non essere dichiarato in questa unica maniera può anche essere dichiarato come una semplice funziona possiamo utilizzare la scorciatoia rfc invece che rafc e che rafc resta a react arrow function component mentre senza la a senza roco non avete che avete una funzione oppure niente mi vieta comunque di andarlo a dichiarare manualmente quindi di importare a react from react perché una dipende si sono né un file all'interno del nostro progetto più di che andare a dare il nome che voglio consta componente 1 uguale a quello che voglio e ritornare questa volta tornare una cosa diversa un bell'h2 ha scritto componente 1 dopo di che andare a esportare il nostro componente 1 avrò ottenuto lo stesso risultato ovviamente cambiando quello che era quello che viene mostrato sullo schermo perché da un semplice dice ho ritornato un h2 posso anche esportare normalmente quindi posso esportare il signor componente 1 questo però mi obbliga nel luogo in cui l'ho importato ad avere un digitore differente ovvero inserire tra pazienti ciò che importo e deve avere esattamente lo stesso nome se lo chiamo componente qua metto componente c'è qualcosa che non che non va e avrò immediatamente un errore un'altra regola molto importante è che il nostro componente deve sempre ritornare qualcosa nel momento in cui il nostro componente non ha nessun ritorno avremo un problema se facessi così ecco che abbiamo un errore un componente deve sempre ritornare qualcosa se no rischio che la nostra applicazione crashi totalmente quindi non ritornare qualcosa ciao e funziona il caso io non avesse un ritorno avesse solo all'interno quello che mi serve anche qua ho un problema deve sempre avere un retor statement questo è fondamentale regola d'oro che non può non può assolutamente essere scavalcata un'altra regola molto importante è che ogni componente deve ritornare un unico elemento questo che cosa vuol dire che io non posso avere come return ciao e sotto un h3 con scritto ciao ciao e sarà ciao ciao questo non non è non è assolutamente permesso quindi quello che posso fare è semplicemente racchiudere a chiudere questi due elementi all'interno di ed ecco che non avrò assolutamente nessun problema nel caso non volesse avere un div per forza posso utilizzare quello che un react fragment che è semplicemente una struttura vuota ma che mi permette di ritornare questi elementi senza che siano per forza risultanti di un div e semplicemente si dichiara con un tag vuoto opzione numero uno opzione numero due semplicemente è un reata cadotto fragment è esattamente la seconda cosa non vedete un ritorno ma ritorno entrambi gli elementi per vedere cosa sto ritrovando non è molto semplice apriamo la console spostiamo la sotto per non impazzire togliamo telefonico attenzione che mi è scappato punte virgola questo succederà tantissime volte sono esperti nel lasciare i punti virgola all'interno del del nostro del nostro file vedete se andiamo ad ispezionare il nostro elemento il signor ciao e signor ciao ciao non sono racchiusi all'interno di di alcuni dita sono due elementi lasciati lasciati in maniera indipendente nonostante facciano parte dello stesso componente ma perché ci sono tutte queste regole nello scrivere i componenti ma il motivo è molto semplice perché mentre noi esteriormente vediamo di crediamo di stare semplicemente scrivendo nell'html ricordiamoci che siamo comunque in javascript in questo momento è quello che noi stiamo scrivendo js ex il js ex in realtà è un modo di scrittura in javascript che ci permette di scrivere in maniera più semplice delle reakt application senza dover utilizzare il vecchio modo di scrivere delle reakt application che è ovviamente è molto più più complesso e il vecchio metodo non viene praticamente più utilizzato poiché non è sicuramente il modo più comodo di scrivere delle applicazioni reakt ma vediamo semplicemente per capire che cosa succede dietro le quinte mentre noi scriviamo in maniera molto semplice il nostro js ex che noi in realtà non ce ne accorgiamo ma stiamo utilizzando una funzione nello specifico ad acto crete elementi che prende 33 parametri il primo è che cosa noi stiamo quale tipo di elemento html vogliamo scrivere quindi in questo caso h2 dopodiché prende le props che vedremo successivamente che cosa sono e in ultima analisi che cosa c'è all'interno di quel componente quindi volendo c'è ciao 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 salvando in questa maniera vedrete che noi abbiamo creato questo elemento se volessimo creare un div con all'interno un h1 potremmo fare e scrivere div qua e in questa zona andare a mettere successivamente un altro reakt dot create element e mettere qua eccolo qua bel h2 props non ne abbiamo spiegheremo successivamente che cosa sono e dopo di che mettiamo sono dentro un div vedete che abbiamo sono dentro un live come come componente e e così via niente ci ci impedisce di avere questo tipo di scrittura ovviamente scrivere gs ex è molto molto più come come potete benissimo vedere quello che si presenta davanti ai nostri occhi è esattamente quello che abbiamo descritto esattamente prima quindi un tipo con dentro un h2 perciò quando noi andiamo a scrivere in maniera molto semplice il nostro j6 teniamo presente ben presente che noi in realtà stiamo scrivendo questo per questo non possiamo non ritornare qualcosa o scrivere qualcosa all'interno del nostro gs ex perché avremo la mancanza semplicemente di un parametro e non stiamo ritornando niente e non possiamo utilizzare in maniera corretta la nostra funzione e questa dicitura semplicemente si si riscrive si può descrivere esattamente in in questa in questa maniera in questa maniera abbiamo scritto esattamente la stessa cosa di prima anche lo scritto ciao ciao sono dentro un dip e siamo esattamente allo stesso punto di di prima annotiamo altre altre regole che che sono che sono molto importante e anche alcune convenzioni sicuramente una delle prime regole fondamentali e di racchiudere il nostro return sempre tra parentesi oppure qualora non volessimo utilizzare le parentesi che nel caso avessimo un formatter come pritier come voglio come io in questo momento nel momento in cui vado a salvarlo il formatter a mettere a posto il codice ma la cosa importante è che il nostro tag di apertura si trovi nella posizione in linea con il return perché nel caso io andassi a porlo al di sotto vedete che lui diventerà scuro avrò un errore e non sto ritornando in questa maniera niente il caso salvassi avrò un problema ovvero non ritornerò quindi ricordiamoci sempre di mettere il nostro di in linea non so tag di apertura nel nostro di in linea con quello che è il return statement in caso salvassi automaticamente formatterà e metterà le parentesi un'altra regola molto importante è che tutti i gs ex tag che in html sono normalmente chiusi in automatico faccio un esempio per per un input l'input normalmente è chiuso è chiuso da solo normalmente in html se io poi qua vado a scrivere type text tecnicamente in html è tutto giusto in in gs ex è obbligatorio chiudere questo tag stessa cosa vale con gli mg che normalmente in in html una volta scritto le mg io terrò semplicemente a dicitura di essers e alt e dopo di che sarà chiuso in in automatico in html mentre in gs ex è importantissimo chiudere tutti i tag che vanno chiusi perché ricordiamoci che ci stiamo trovando e ci troviamo in javascript non in html nonostante a livello visivo e anche comunque di funzionalità stiamo scrivendo a tutti gli effetti dell'html un'altra conseguenza del fatto di essere all'interno di javascript non qualcosa da tenere sempre a mente è il fatto che tutti gli attributi che noi normalmente scriviamo in html devono essere scritti in camel case ovvero con l'iniziale della seconda parola maiuscola ad esempio long click con abituati a scrivere semplicemente in questa maniera va scritto come viene suggerito esattamente in questa maniera stessa cosa vale per alcuni attributi che sono riservati ad esempio quello che è l'attributo class per descrivere il nostro html element con una classe ricordiamoci che classe è una parola riservata in javascript che ci porta a dichiarare una classe perciò quello che in j6 corrisponde a una classe 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 in questo caso andiamo a vedere l'interno del nostro root che cosa prima della nostra app abbiamo finalmente ci siamo con sotto con classe classe questo è molto importante un altro consiglio questo è più una pratica generale e che visto che comunque come ricordo e ripeto siamo obbligati nel caso volessimo avere un render con più elementi al suo interno siamo obbligati a racchiudere questi due elementi all'interno di un reato fragment questo che cosa vuol dire è che noi dobbiamo stare molto attenti a quello che noi effettivamente utilizziamo perché ricordo che l'html comunque ha una semantica che va rispettata semplicemente per ordine perché se io vado a racchiudere tutto dentro a un div mi continuo quindi qua o h4 a terzo elemento al minuto con dentro un altro di con p non so scrivere e vedete che io mi ritrovo in quella che viene praticamente chiamata la zuppa di div in cui non non capisco più niente leggendo il mio codice perciò rispettiamo la sintassi richiesta html perciò in questa sezione descriviamo con una section per questo valore magari allora fosse ovviamente possibile chiamiamolo con articoli in modo che nel momento in cui andiamo a cercare il nostro codice riconoscerlo diventa tutto molto più chiaro so cosa corrisponde un article è tutto molto più chiaro questo è importantissimo questo questo è più un consiglio ed è una best practice più che una cosa obbligatoria da da fare in questa lezione andremo a vedere come inserire più componenti interno di un singolo componente perché questo ovviamente ci è concesso ed è lo scopo di utilizzare react in questo momento stiamo semplicemente scrivendo gs ex e ritornando un po di html perciò non ci sembra avere tutto quel gran senso perché niente ci vieta comunque di ritornare tutta la nostra applicazione in un unico gigantesco componente niente ci vieta questo però perderemo totalmente il senso di utilizzare react ma vediamo quello che possiamo fare per esempio io avessi una sezione all'interno del quale volessi che ci fosse delle persone persona perché è una sola in questo momento che semplicemente in questo momento in questo momento sarà ovviamente qualcosa di molto semplice un esempio h2 mi chiamo daniel e questo è la nostra persona con un messaggio con un messaggio per questo utilizzeremo un ritorno esplicito un esplitivo retiro in cui direttamente diremo quello che stiamo ritornando quindi h4 sono un messaggio sonna perché a unico il nostro nostro messaggio e io in questa sezione ritornerò una persona ricordiamo di chiudere il nostro componente e successivamente un bel messaggio un bel messaggio un bel messaggio un bel messaggio chiudiamo le maniare di fare in tempo che funzionerà esattamente nella stessa nella stessa maniera vedete che abbiamo questo interessantissimo aspetto che può essere ripetibile ma nel caso avesse volesse avere un componente ancora più composto posso dire che a cost saluto uguale al function al function all'interno facciamo così va un po di copia in colla che è sempre bene sì messaggio io qua vado a magari rendiamo un pochino più un saluto ciao sono dai saluto a questo saluto e nel caso volessi replicare questo saluto ecco che in questa maniera vedete quanto è più semplice di molto più chiara la nostra applicazione nostro componenti più benissimo che cosa faccia appena impareremo a passare delle proprietà o comunque delle variabili dei parametri come le vogliamo chiamare ai nostri componenti vedete quanto diventa già facile solo immaginare una sezione in cui non appena un utente entra a un saluto predefinito dato dal suo nome questo è un esempio molto 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 semplice questo ci permette di avere dei componenti innestati all'interno di altri componenti lo strumento molto interessante da utilizzare e di cui imparare nel funzionamento e il react developer tools che si illuminerà quando un'applicazione su un sito ovunque noi stiamo navigando sia composta con react non avremo il fatto che si ogni questo la nostra estensione di google è quello che ci permette di fare che aprendo la nostra console avremo all'interno delle nostre opzioni nascosto ovviamente la sezione di componenti e nei componenti non vedremo effettivamente quelli che sono i nostri componenti vedete che entrò saluto o persona del seduto o persona dentro componente 1 questa serie di aspetti questo scelta molto capire effettivamente come composta la nostra applicazione e sulla destra abbiamo una lista delle props che devo vedere molto presso cosa sono quanto sono importanti e tutti i parent vari c'è in dei children del dei nostri componenti e dei metodi che sono chiamati su su di essi siamo finalmente giunti al punto in cui possiamo realizzare un primo componente un pelo più complicato vederne alcune funzioni alcuni aspetti e in questo caso realizzeremo forse uno dei componenti più classici che si può realizzare ovvero la classica card in cui l'interno mettere un prodotto con il tasto per comprare il prezzo l'immagine e tutto quanto andremo a replicare non in maniera super identica ma per quanto per tutto quello che è necessario una delle card di bidu che è un sito molto interessante nel caso con cui non lo conosciate per le aste per risparmiare un pochino prenderemo tra tanti prodotti quello che mi sembra più più carino quando questo mi piacciono i colori più lontano anzi perché poi dopo quando verremo lo schermo per vederlo sarà lontanissimo ma prendiamo questo niente fantasia quindi la prima cosa che facciamo è copiare l'indirizzo dell'immagine per non diventare pazzi vediamo questa finestra vediamo anche questa magari a primo video qua così possiamo avere la card davanti e poterla vedere nel mentre che sviluppiamo come zoom effettivamente ci siamo mi sembra che si veda abbastanza bene a questo punto dobbiamo solo più iniziare a realizzare il nostro componente il primo passo da fare è ovviamente creare un componente che possiamo fare sia in questo file ma che un qualcosa che tendenzialmente non si fa perché bisogna mantenere questo fa non è una convenzione poi ognuno fa quello che vuole però il più pulito possibile stesso discorso vale per il file index sono due file che tendenzialmente sono ottenuti il più politi possibili perciò creeremo un altro file dentro la nostra cartella se creiamo nostro file che si chiamerà product dot js ora dichiariamo il nostro componente ricordiamoci che abbiamo diversi metodi con i quali possiamo creare il nostro componente il più banale è semplicemente importando in maniera manuale dopodiché dichiarare una funzione quindi cost product uguale una bella row function oppure anche una funzione normale il nostro componente quindi riguardi di ritornare sempre qualcosa ben di in questo caso e poi sport default è il nostro il nostro prodotto il nostro componente oppure oppure possiamo utilizzare la scorciatore da tastiera che ci dà il l'estensione ismr act relax grafico è tutto quello che c'è dietro con lo slash mi ricordo che ci permette di dichiarare componenti ma non solo tutto ciò che ci sarebbe reatti maniera molto veloce con pochi con un semplice comando cosa che vi consiglio di imparare a fare perché l'utilizzo delle scorciatoie da tastiera è uno dei principi basilari per migliorare la propria produttività come sviluppatore la scorciatoia per una raw function è il conseguente export di quella di quella raw function è semplicemente r a fc e che altro non vuol dire che reatta raw function export component una volta dichiarata questa scorciatoia mette in più e otterrete questa dicitura in cui avrete l'importo automatico di react il nome del vostro prodotto e l'exporto del vostro del vostro componente scusatemi che prenderà direttamente il nome del vostro file se il nostro file lo andassimo a chiamare tommaso piccolo punto di s vedete che se fate rrfc e lui importerà tommaso una cosa molto importante che i componenti react devono sempre essere con la lettera maiuscola quindi nel caso volesse utilizzare tommaso cosa che mi sconsiglio dovresti dichiararlo sempre con la lettera maiuscola perché è una convenzione che permette a reati riconoscere che quello nello specifico è un componente tommaso sinceramente fa ridere ma non non mi piace quindi torniamo al nostro buon vecchio prodotto una cosa importante che per quanto riguarda lo styling del componente non lo farò in maniera diretta in presa diretta perché questo comunque un corso di react e non di styling perché se mi mettessi a stilizzare e a mostrare lo styling tutte le volte che realizza un componente capite bene che non parleremo assolutamente react ma parleremo solo di css lo styling è veramente molto basilare semplicemente utilizzare un articolo articolo after per replicare in maniera banale non identica queste icona che c'è poi in alto e dopo di che cos'è molto semplice per dare un po di styling niente che comunque non conosciate già che non potete apprendere in cinque minuti andiamo realizzare il nostro componente a questo punto per lo styling vi ricordo che viene importato all'interno del file di index ci sono altre maniere in cui possiamo stilizzare a parte lo scritto per adulto siamo pronti finalmente realizzare il nostro componente la prima cosa che possiamo fare per vedere cosa succede con i nostri componenti è sicuramente intanto eliminare quello che effettivamente è il componente 1 semplicemente commentando cancellando non si cancella mai si commenta sempre magari qua scrivere la nostra prima card nostra prima prima card dopo di che importiamo nostro primo componente il nostro componente prodotto possiamo chiamarlo come vogliamo quindi anche prodotto prodotto questo perché vi ricordo che abbiamo esportato come export default non di export quindi possiamo tranquillamente chiamarlo come vogliamo anche banana anche tavolo anche gianluca come vi pare è semplicemente inseriamo in questa sezione non cosa che ho fatto è stata copiare l'immagine quindi posso fare const mg uguale il suo valore così da non doverlo andare a cercare che potrà perdiamo e anche per vedere un aspetto molto importante quasi subito a questo punto seguiamo le regole base che ci siamo dati l'altra volta ovvero dichiariamo le cose utilizzando la sintassi che l'html normalmente richiede quindi questo non sarà un div ma sarà un articolo con all'interno un'immagine che ci permetterà subito di vedere un aspetto molto importante ovvero l'utilizzo di variabili costanti all'interno dei nostri componenti perché ovviamente vorremmo utilizzare in questo caso la nostra immagine nostra costante img e come possiamo fare per utilizzare in maniera corretta la nostra costante dobbiamo aprire delle parentesi grassi l'apertura di parentesi graffe all'interno della scrittura in gs ex che vi ricordo che altro non è che una strazione per l'utilizzo di una funzione più complicata come ho visto nelle volte precedenti l'apertura di queste parentesi comunica al nostro gs ex che noi vogliamo tornare utilizzare del javascript normale in questo caso la nostra variabile qualora io non aprissi queste parentesi non posso utilizzare del javascript all'interno dei miei componenti della mia scrittura in gs ex questo è molto importante quindi anche se io volessi si avessi una variabile un'altra costante che poi si chiama parola in un const constanzi alt uguale valore io non posso utilizzare neanche il template string per utilizzare questo quindi se io volessi utilizzare questa dicitura non lo posso fare anche che mi segnala errore quindi per fare questo devo aprire le parentesi comunicare che voglio tornare a scrivere del javascript normale utilizzare i miei tempi string e a questo punto dichiarare quello che mi interessa in questo caso sarà alta a questo punto sarà tutto a posto qual è l'errore che mi segnala in questo punto non ho chiuso il tag perché tag che si utilizzano e che normalmente in html sono chiusi in automatico come gli mg va chiuso in maniera manuale all'interno del gs ex questo è molto importante perché se no il nostro componente segnerà un errore ma andiamo avanti e sviluppiamo il nostro componente che avrà un look un po diciamo un po banale quello possiamo fare sicuramente in chiudere l'interno di un altro div che possiamo nominare come possiamo dare la classe di card che la classe che darà un po di styling per non perdere tempo andiamo a vedere come completare il nostro componente farlo assomigliere il più possibile allora sicuramente sotto gli mg c'è un titolo che avremo in h6 che quindi è 10 euro amazon mazzone 10 detto che prendi battitura 10 euro amazon dopodiché presenta un bel hr che anche qua va chiuso non è chiuso in automatico come in html possiamo chiudere in questa maniera se volessi costruire un po di codice cosa che consiglio sempre mantenere tutto un pochino più ordinato dopodiché a il prezzo sono così mettiamo punti per due più due no un bel p per due abbiamo 2,16 euro sotto di chi è di bambi 00 b000 ok qua siamo praticamente pronti vediamo cosa succede nella nostra card nostra card assume questa forma che mi sembra che assomigli abbastanza quella in qua forse sono fonte diverse meno spacing tra le lettere dopodiché andiamo a inserire un altro picco a in cui abbiamo il riapre questo è per vedere ancora un'altra volta utilizzare le variabili mettiamo costo prezzo 14 euro noi siamo siamo più precisi avremo un atto semplicemente con al suo interno una variabile che si apro le parentesi comunico che voglio tornare a utilizzare del javascript normale utilizzo la mia variabile prezzo e lo faccio seguire dal valore euro per avere tutto un pochino più definito torniamo sul nostro componente lo so con parente ora a questa forma che non è identica non è bellissima ma comunque efficace o un'altra classe che è card time che da un po di stare in questa maniera come vedete il potenziale dei componenti salta subito all'occhio perché nel momento in cui io ho la possibilità di replicare in maniera semplice veloce passando le variabili per utilizzare per sostituire questi vedere scritti manualmente con delle variabili ecco che in maniera molto veloce molto automatica io posso realizzare questa schermata in pochissimi passaggi e per darvi una dimostrazione effettivamente cosa succederebbe e ci basta che in questa sezione aggiungiamo una bella section che chiamiamo card section all'interno del quale inseriamo il nostro prodotto e magari ne inseriamo ne inseriamo 5 tutto in cui copiamo incolliamo ecco che abbiamo questo tipo di rappresentazione che su della finestra più grande replicherà questo tipo di di stali e come vedete da già un pochino più per quanto momento non sia ancora così evidente l'importanza di utilizzo dei componenti però fa già presagire quella che sarà la sua importanza una volta che saremo in grado di gestire la logica di quello che succede quindi mostra dei cambiamenti in maniera dinamica per ogni prodotto ecco che l'utilizzo di componenti sarà sempre più importante in questa lezione andiamo ad approfondire quelle che sono effettivamente una delle cose che possiamo realizzare e fare con javascript all'interno dei nostri componenti la prima cosa che volevo farvi vedere e che non devo per forza dichiarare le variabili all'interno all'esterno del nostro compagnolo so farlo anche all'interno anzi di norma è una qualcosa che si fa all'interno ma anche all'esterno dipende dalle situazioni più che dalle preferenze ovviamente ho preso l'unica che non che non cambia niente che non si vede vediamo il prezzo il prezzo che prima era 14 adesso e 10 come vedete adesso e 10 mettiamo 14 e diventa 14 così all'interno come all'esterno un'altra cosa che possiamo fare è utilizzare dello styling dare dello styling direttamente all'interno del nostro componente come si fa questo in uno dei nostri elementi gsx element scriviamo il parametro style uguale apriamo le graffe e dobbiamo passare un oggetto con lo styling che vogliamo applicare ricordiamoci che essendo in gsx l'aver aperto le parentesi graffe in questo momento non indica che stiamo passando un oggetto ma che vogliamo tornare a utilizzare javascript normale perciò per passare un oggetto apriamo altre parentesi graffe che rappresentano finalmente il nostro oggetto dove diciamo che vogliamo rendere tutto questo tutto maiuscolo quindi text transform come vedete siamo in javascript perciò non si passeranno le proprietà del css in questa maniera ma con il camel case ovvero le lettere la lettera maiuscola al posto del separatore di parola che sui trattino lo spazio quello che che vogliamo dopodiché bisogna passare una stringa perché siamo in javascript e quindi diciamo che è perché salviamo come vedete il nostro ovviamente l'ho messo nell'unico altro posto in questa cosa non si può vedere sono fortissimo a fare questa cosa la gente copiamo e mettiamolo in in bambi che avete adesso bambi è totalmente maiuscola un altro modo molto classico di definire lo styling ad esempio dire consta di qui style e uno passa quello che effettivamente è il soggetto quindi text transform a perché qua passa il il p style come vedete è rimasto tutto maiuscino diversi modi poi dipendere alle preferenze io preferisco sicuramente utilizzare del classico css anzi per rischio utilizzare l'istare the components che sono un altro aspetto che devono vedere sicuramente un momento più avanzato ma che ci permettono di lavorare molto 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 meglio le nostre componenti avere uno styling più ordinato e che non ci faccia diventare matti nel dover trovare mille mila nomi diversi per le nostre classi perché questo è ovviamente il pericolo numero 11 poi dopo da nomi fantasiosi non capisce più niente di come si chiamano le sue le sue classi dopodiché io posso utilizzare anche delle funzioni dei metodi classici di javascript all'interno dei nostri componenti mettiamo caso che riaprire presto è una nostra preble ma anche non fosse una variabile fosse una normale stringa anzi facciamolo come una normale stringa quindi apriamo le parentesi graffe diciamo a questo elemento che è una stringa dopodiché trasformiamola in come vedete che si può tranquillamente fare l'importante prevedere parentesi grazie quindi noi abbiamo accesso praticamente a quasi tutte le proprietà o i metodi o le funzioni che noi regolarmente utilizziamo in javascript dobbiamo utilizzarle nella maniera corretta un'altra cosa molto importante che posso effettuare e anche svolgere delle operazioni in javascript all'interno dei dei miei componenti quindi se io prezzo lo volessi calcolato vorrei dire che è 2 più 2 questo ovviamente lo posso fare posso svolgere dell'operazione nei miei componenti una cosa che non posso fare e dichiarare delle variabili o degli costanti all'interno del del mio componente questo perché posso non passare qualcosa un oggetto una funzione quello che sia che non ha un return alla fine deve ritornare per forza qualcosa quindi non posso dire che in p o let prezzo uguale 5 lo sei già come errore ma non appena lo faccio subito l'applicazione crash e tenete presente che nel caso voi aveste un errore da qualche parte tutta la vostra applicazione crescerà quindi mettiamo che abbiamo due più 2.16 ora sono tornati ad avere 4.16 che qua avremo diciamo così 1 per 2.16 e quindi non avrei 2.16 euro come nostro prezzo queste sono le operazioni basilari ovviamente non tutte non scherziamo che posso svolgere all'interno dei miei componenti direttamente con con javascript aprendo le mie parentesi grazie dopodiché potrò fare veramente di tutto e di più tranne cosa importantissima che non posso fare e avere degli state ma nel mi state non è concesso all'interno del nostro del nostro componente ma ci sono dei metodi per aggirarli in questa lezione finalmente andremo a vedere come possiamo passare dei valori dei parametri ai nostri componenti quello che per comodità andremo a fare innanzitutto e pulire un po il effettivamente il coggetto li hanno tutte quelle cose che per motivi dimostrativi abbiamo inserito in precedenza ovvero questo questo metodo anche questo p style effettivamente non è che ci sia di così fondamentale importanza la stessa cosa vale per questo può essere tranquillamente sostituito da un numero da un numero mentre questo può venire tranquillamente quello che al momento cancelliamo questo valore perché non ci interessa e dopo di che sempre per comodità vado a copiare quello che è product e lo andiamo a incollare qua sotto questo è stato fatto non per altro motivo se non quello di evitare completamente un continuo assalto tra una tra un file un altro che sicuramente non è il miglior modo per spiegare qualcosa fatemi solo dare un piccolo spazio qua che mi sta facendo diventato ok salviamo qua salviamo qua e certo perché immagino non è definita non abbiamo importato sono indicati di copiare incollare questo copiamo e incolliamo anche questo sopra e ora dovrebbe essere tutto a posto perfetto queste sono i componenti che avevamo prima ma come possiamo passare soprattutto utilizzare parametri valori all'interno dei nostri componenti ci saremo sicuramente accorti che un componente alto non sia che una funzione e come tutte le funzioni ovviamente accetta dei parametri tendenzialmente quello che per convenzione viene dato come parametro ai componenti viene definito come props che è una convenzione che consiglio di rispettare poiché permette di rendere il nostro codice il più leggibile possibile anche a fonti esterne ma vediamo subito che cos'è questo props perché l'argomento più importante ovviamente è quello cerchiamo di capire effettivamente che cosa sia e per farlo ci basterà semplicemente avere un console dot log di props salviamo e vediamo che abbiamo cinque oggetti questo perché ci fa capire subito una cosa che ogni componente ha una logica indipendente abbiamo cinque oggetti vuoti perché props intanto è un oggetto ma perché ci sono cinque componenti quindi ognuno reagisce diciamo in maniera autonoma e con la propria seguendo la propria logica ovviamente a titolo dimostrativo vi faccio vedere che si può anche chiamare il console log all'interno del nostro componente sempre aprendo le due parentesi graffe console lo chiamiamo props e avremo questa volta dieci oggetti ora per non diventare matti commenterò questa commento da questo console log il commento mi sembra che su su mac sia command slash mentre su su windows e control u accentata e vi commenterà la riga pure nel caso voleste farlo manualmente il commento in jsex si fa in questa maniera tra le parentesi e poi dopo si inseriscono il commento del css detto in maniera molto semplice eliminiamo questo console log e magari togliamo anche due prodotti per semplicità per avere meno 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 casino meno confusione puliamo la console e torniamo ai nostri due console log originali in questo momento abbiamo due console che ci mostrano che props è un oggetto ora cerchiamo di passare dei parametri e dei valori delle chiavi e dei valori al nostro oggetto come possiamo farlo beh semplicemente quando andiamo a utilizzare il nostro componente dove ci interessa il modo per passare delle chiavi con dei valori associati al nostro oggetto props è semplicemente quello di dichiarare parametro e valore nome quale dario zona uguale arancione ora come vedete il console log del primo prodotto solo unicamente lui non è il secondo perché il secondo non presenta nessun parametro a due chiavi con due valori associati il valore dario associato alla chiave nome e il valore arancione associato alla chiave zona a questo punto per accedere a quelli che sono i nostri valori mi basta semplicemente utilizzare props punto il valore di mio interesse quindi nome nel caso di nome e otterrò dario e and find poiché il secondo prodotto ovviamente non ha quella chiave e quel valore posso passare anche dei numeri quindi magari passiamo nel secondo succede numero uguale ovviamente per passare un numero devo prima comunicare al jazz ex che ho bisogno di passare a scrivere codice in javascript non posso passare il parametro in questa maniera poiché bisognerà errore e in questa maniera non sto assolutamente passando il 2 rappresentato come stringa poi volendo posso trasformarlo all'interno il mio componente ma il codice e codice di troppo diventa più semplice passarlo in questa maniera quindi adesso andiamo a vedere però come possiamo veramente sfruttare la possibilità di passare dei parametri con dei valori associati ai nostri componenti in modo da ritornare dei componenti dinamici che utilizzino e si comportino in maniera diversa e mostrano delle parti differenti dove necessario perciò io già preparato questi due questi due oggetti adesso andiamo a creare dei prodotti uno che si basa su l'oggetto prima card e il secondo che si basa sul seconda card togliamo tutto questo puliamo la nostra console che capiamo con più chiarezza cosa sta succedendo cosa che non è successo ok e andiamo a dire che il nome è uguale apriamo le parentesi perché torniamo in javascript non passargli un valore quindi prima card dot nome prezzo uguale prima card dot prezzo img uguale prima card dot img per semplicità copiamo sostituiamo e andiamo a sostituire quello che effettivamente è prima card a tutti gli effetti con seconda card seconda card punto non ora facciamo sì che il nostro componente vada a utilizzare in maniera dinamica queste proprietà e come possiamo fare bene in modo è molto semplice le vediamo questo che a questo punto ormai non c'è più utile e diciamo che al posto di src dove c'è semplicemente immagine noi diciamo che vogliamo props dot img noi passiamo come parametro associato a un valore quindi il nostro props presenterà quel valore sotto alt al posto di alt noi vorremmo noi vorremmo metterci props dot nome al posto di questo valore ma al posto del titolo vorremmo mettere non sono più capace props dot nome al posto di questo valore metteremo props dot perché sono questi due elementi non ci interessano più sono di troppo e anche qua aggiungiamo magari ad entrambi un'altra chiave dove diciamo costo finale due punti quanti anni 5 90 solo per pigrizia e andiamo a dire che e andiamo dire che il nostro bottone non sarà come testo props dot costo finale a questo punto salveremo abbiamo un errore ovviamente avrò messo un punto in virgola dove non ci deve essere e mi sono inventato una virgola quando ci vuole il punto salviamo e otteniamo così il risultato desiderato ovvero poter utilizzare il componente in maniera più dinamica che passandoli una serie di proprietà o parametri con associati dei valori fosse in grado di riprodurre quelli che effettivamente fossero i dati che abbiamo bisogno di produrre così che sia più dinamico e ottenendo da una fonte di dati che sia un api o anche solo un altro file contenente una lista di card poter mostrare in maniera più dinamica tutti i dati dei nostri prodotti ovviamente questo non funziona solo unicamente nel caso il nostro componente sia nella stessa pagina mi basterà semplicemente copiare in questo caso per sostituire non per altro motivo a quello che il mio componente nel file prodotto j s in questa sezione passandoli ops inserendo il parametro eliminiamo questo img di cui ne abbiamo più bisogno anche alte prezzo non sono più a noi necessari in questa sezione togliamo veniamo definitivamente il prodotto e togliamo dal commento il nostro il nostro import salviamo e come vedete tutto rimane esattamente come prima ora è molto più ordinato non abbiamo tutto nella stessa pagina e tutto continua a funzionare in maniera molto semplice ma molto efficace qualora avessimo appunto una serie di dati ecco che magari un array con 50 di queste card saremo tranquillamente in grado di riprodurre in maniera molto manuale molto meccanica quello che effettivamente può essere la pagina di di uno shop almeno livello visivo poi livello funzionale in questo momento non siamo ancora in grado però comunque ci avviciniamo già a capire quali possono essere le potenzialità e l'importanza della riusabilità del codice scritto in questa maniera in questa lezione andremo a vedere quelli che sono i metodi più utilizzati e più comuni sia per passare parametri e valori associati a questi parametri ai nostri componenti sia per accedere a questi a questi valori perché in questo momento come ben vedete passare in questa maniera parametri con valori associati ai nostri componenti non rende il codice così facilmente leggibile nel caso appunto avessimo tanti componenti con diversi parametri cosa che succede molto molto spesso ecco che ci troveremo molto presto ad avere un codice molto complicato difficile da mantenere e soprattutto in cui trovare un errore non è sicuramente la cosa più più semplice ma entriamo subito nel dettaglio il metodo più utilizzato e che troverete più spesso quando leggerete codice di altre persone per passare quelli che sono i parametri ai nostri componenti e l'utilizzo dello spread operator che per farvi vedere quello che è la rappresentazione dello spread operator è semplicemente quella di aprire una graffa in questo caso perché dobbiamo accedere a javascript quindi non è prassi dello spread operator essere all'interno di una parentesi graffa ma stiamo entrando in javascript stiamo passando dei parametri lo spread operator si descrive utilizzando 123 puntini e poi il nome del dell'oggetto o dell'array di interesse questo perché perché devono è ovviamente utilizzabile con oggetti che sono enumerabili nel caso appunto salvarsi ecco che niente è variato quindi quella che è la funzione dello spread operator è semplicemente emulare questo tipo di comportamento ovvero passare questi valori esattamente in questa maniera emula questo tipo di comportamento perciò avrò questo avrò esattamente questo tipo di rappresentazione in cui avrò come chiave come nome del parametro la chiave corrispondente e poi il valore che utilizza questo semplicemente replicando questo tipo di comportamento per spiegarvi e farvi vedere bene che cos'è lo spread operator il miglior esempio è sicuramente il più semplice e l'utilizzo del metodo mass dot max che tra una serie di numeri ritorna quello dal valore maggiore quindi nel caso avessi un array composto da 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e volesse scoprire quello che è il maggiore utilizzo il metodo mass dot max quindi facciamo console dot log maf dot max che come possiamo vedere nel momento in cui ci viene descritto anche qua troviamo questo tipo di descrizione di dicitura questo perché il metodo mass prende una lista di valori una serie di valori se passassi ad esempio il la costante numeri otterrei nota number perché devo passare una serie di numeri quindi devo passare questa serie di valori in questo caso nel caso copiarsi appunto e inserissi questa lista di numeri all'interno come come parametro ottengo il valore desiderato ma vedete che non è sicuramente il metodo più intuitivo nel caso il mio array nel caso non fosse a conoscenza come nel 99 per cento dei casi in cui utilizzo questo metodo di ciò che è all'interno di questo array o comunque fosse molto complicato avesse 800 numero al suo interno sicuramente non possono entrare scrivere tutto questo in maniera manuale quindi passerò questa serie di numeri esattamente con lo spread operator e otterrà come risultato 9 cancelliamo questo aspetto commentiamo commentiamo quanto appena scritto e andiamo anche a utilizzare lo spread operator per il nostro secondo prodotto quindi abbiamo le parentesi graffe per entrare in javascript e passiamo al nostro componente seconda card con lo spread operator e vedete che tutto rimane esattamente come prima rendendo tutto molto più leggibile e molto più ordinato non c'è neanche da discutere sulla differenza tra il metodo precedente e quello di adesso e notiamo da subito quanto sia molto più ordinato e molto di più facile lettura il nostro il nostro codice sapevamo benissimo a che cosa corrisponde ogni parametro non abbiamo bisogno di impazzire nel capire a cosa stiamo facendo riferimento il codice molto più mantenibile molto più breve e molto più ordinato soprattutto ma vediamo adesso come possiamo invece accedere in maniera più semplice più ordinate molto più funzionale a quelli che sono i parametri che noi passiamo al nostro componente diciamo che l'opposto dello spread operator la funzione opposta anzi complementare più opposta la destrutturazione che permette di accedere singolarmente di estrarre in maniera più semplice quelli che sono i valori all'interno di un oggetto di un arrego con qualcosa che sia anche a sua volta e numerabile e iterabile come già sappiamo props è un oggetto quindi possiamo vedere che in questo momento corrisponde esattamente a quello che è il nostro gli oggetti che gli stiamo passando le chiavi valori di quello che noi stiamo passando tramite nostro spread operator noi sappiamo che props è un oggetto è un oggetto che ha come chiavi valori quello che in questo momento non li stiamo passando con lo spread operator attraverso il nostro componente e il metodo per destrutturare un oggetto è il seguente const oppure let non cambia niente apertura della graffa apertura della graffa non per comunicare che stiamo entrando in javascript perché la necessità di comunicare che stiamo entrando in javascript attraverso le parentesi graffe avviene all'interno del jsx in questa zona noi siamo totalmente utilizzando javascript non stiamo utilizzando nessun altro tipo di linguaggio in questo momento e la destrutturazione consiste nel dichiarare quelli che sono le chiavi che corrispondono ai valori che voglio estrarre quindi nel caso io volessi costo finale e nome mi basterà dire costo finale circola nome quale props dopo di che qua potrò a questo punto dire semplicemente costo finale vorrei dire solo nome come vedete tutto funziona in maniera molto regolare e in maniera molto più pulita perché non ho props punto props punto props punto che diventa oltre che ripetitivo anche non sempre così facile da mantenere non rende così semplice individuare che cosa stiamo interendo non è il metodo più ovviamente ognuno poi fa quello che vuole ma così è tutto molto più semplice molto più ordinato stessa cosa vale per gli altri valori quindi destrutturiamo completamente il nostro oggetto prezzo e sostituiamo quelli che sono gli amici e nel caso volessi mantenere proprio prezzo questo non non causa nessun problema tutto non è che di strutturare poi rompe o tira fuori dall oggetto assolutamente no quelli che sono le sui chiari valori questa sezione devo mettere prezzo e vedete che tutto è molto più ordinato noi questo tipo di azione possiamo comperla in questo punto ma se volessimo passare diciamo un livello ancora più alto visto che sappiamo che il componente prende come parametro props noi possiamo direttamente andare a scomporre il nostro oggetto destrutturare il nostro oggetto in questo punto quindi direi mg costo finale 9 e prezzo ed ecco che il componente è ancora funzionale tutto funziona e noi abbiamo esattamente il risultato che volevamo avendo semplificato molto l'utilizzo delle variabili sia nel passaggio delle variabili e dei parametri che è molto più semplice sia soprattutto anche nell'accesso a questi parametri mentre che affrontiamo l'argomento props sicuramente non possiamo non parlare del props punto children ma che cos'è il props dot children il props dot children e tutto ciò che sta tra apertura del tag e la chiusura dello stesso perciò aprirò e chiuderò il tag in maniera differente e creerò un un paragrafo con dentro del testo cavia chiamiamolo così venti lord tab lui ha creato questo testo però come vedete io non ho non si vede niente non la possibilità di accedere a questo paragrafo in questo momento dov'è questo paragrafo e il props punto cilindran e esattamente tutto ciò che è contenuto dall'apertura alla chiusura del tag perciò nel caso volessi accedere a questo a questo paragrafo dovrò aggiungere nella mia scomposizione oppure accedervi tramite props punto children children che in questo caso è una parola riservata non potrò chiamarlo in altra maniera si chiama proprio children e poi deciderò io dove metterlo quindi nel caso appunto ovviamente distruggerà tutto questo ma lo metteremo qua facciamo un paragrafo mettiamo il primo componente il primo componente presenta questo paragrafo cerchiamo magari di dargli un pochino più di senso mettiamo caso che questa dicitura del riapre presto volessi darla solo su uno dei miei due componenti per quello che posso fare sicuramente eliminare questo questo paragrafo con children in serie the children in questo punto mettere children qui e nel nostro all'interno tra l'apertura la chiusura del tag del prodotto interessato mettere appunto il paragrafo che può anche non essere un paragrafo può anche essere semplicemente un un react fragment ci mettiamo il nostro bel si apre si apre presto salviamo e come vedete adesso abbiamo solo e unicamente il riapre preso solo su uno dei nostri due componenti l'altro non avrà non avrà assolutamente questo questo paragrafo ora che siamo esperti e in grado di utilizzare e scomporre in maniera corretta il nostro prox object andiamo a lavorare su quelli che effettivamente sono i nostri dati perché nonostante comunque utilizzare lo spread operator come potete immaginare nel caso avessimo più prodotti questo metodo di render dei prodotti è abbastanza troppo ma senza abbastanza e troppo manuale nel caso comunque avessimo 50 prodotti mi sembra logico che non possa essere questo il metodo quindi avere i dati strutturati in questa maniera e poi manualmente passare quelli che effettivamente sono i nostri dati quindi quello che possiamo sicuramente fare è innanzitutto liberarci di questa sezione perché tanto al momento non non ci serve eliminiamo quelli che è l'utilizzazione i nostri componenti e rifacciamo un po di refactoring su quello che la struttura dei nostri dati quello che possiamo fare è eliminare le costanti e trasformare questo oggetto sicuramente in un array quindi const trasformiamo tutto questo in un array al passo il punto di regola magari mettiamo la virgola togliamo questo punto e virgola a questo punto avremo un array di oggetti ma come possiamo avere un render di un array di oggetti beh se ne provassimo a tornare in javascript e passarli il prodotto vediamo subito che dobbiamo prima avviare server magari quindi contro o oppure apriamo il terminale in questa sezione abbiamo one problems ma che sicuramente sarà il fatto che ne abbiamo utilizzato la variabile prodotto che abbiamo importato e semplicemente facciamo mpm run start si aprirà il nostro server molto probabilmente vi faccio l'anticipazione ci sarà un errore perché ci dice che un oggetto non è un reactor c'è un valido real child vi mostro questa roba perché vi comparirà spesso e spesso sta a indicare anzi il 91 per cento dei casi che non avete passato o un valore valido al vostro componente oppure non avete scomposto quello che state cercando di renderizzare è quello che sta cercando di dirvi di questo errore che guarda fra io posso fare un render se tu mi passi un array di oggetti per favore scompone le dimmi che cosa devo farne con ogni chiave ogni valore questo è il messaggio che sta cercando di passarci react in questa maniera ma vediamo come possiamo effettivamente passare utilizzare i dati soprattutto un array di oggetti o comunque in generale un array per avere una render dei nostri dei nostri dati perché è il metodo tendenzialmente più utilizzato quindi possiamo togliere prodotta qua e dichiarare con nomi e proviamo ad avere un render più semplice di nomi perfetto come vedete possiamo avere un render di quello che è un array però ovviamente in questo caso non è assolutamente funzionale ed è totalmente esente dall'utilizzo del dell'html cose che sicuramente non è di nostro interesse ma come possiamo fare a passare effettivamente dell'html a partire da dai nostri dati possiamo fare in due maniere e semplicemente sono due modi di fare esattamente la stessa cosa sicuramente bisogna utilizzare un metodo il metodo permette di attraversare un un array definito e ritornare un secondo array modificando qualora condizioni fossero soddisfatte nel caso volessimo i singoli elementi del nostro array possiamo farlo sia possiamo farlo sia diciamo all'interno nostro componente prima di avere di entrare nella scrittura al gs ex ma anche poi direttamente all'interno della nostra parentesi graffe richiediamo quindi la nostra costante nuovi 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 nomi nomi perché sono divini e diciamo che sono nomi punto map e map cosa fa prende una callback che accetta fino a tre parametri il primo e ogni singolo elemento tendenzialmente per convenzione si chiama e poi non lo può chiamare come fare in questo caso non mi sono nome solo perché rappresenta il singolo elemento il secondo rappresenta l'index ovvero la posizione che ha nell'array e il terzo parametro e l'intero array quindi proprio nomi questo tendenzialmente e come funziona ma a noi serve solo il primo parametro e trovandoci un arrow function possiamo non aprire le parentesi dire semplicemente nome e quello che vogliamo è che ogni elemento all'interno quindi ogni nome del nostro array nomi sia all'interno di un tag h2 anche qua stiamo scrivendo di nuovo gs ex quindi dobbiamo avere le parentesi graffe e passare quello che è di nostro interesse una volta che salviamo non appena io qua passo nuovi nomi come vedrete otterremo quello che era di nostro interesse a patto che io ovviamente dichiari un ritorno che è organizzato in questa maniera perché nel di nuovo nella sezione dei prodotti che avevano questo tipo di organizzazione un'altra cosa importante è che il map method necessita di returnare quello che è di nostro interesse se no restituirà un array totalmente vuoto aprendo la console possiamo notare che in questo momento ci viene dato un avvertimento in cui ogni elemento c'è al di una lista di vedere un unico che i prop che è un argomento che andremo a toccare nelle prossime lezioni ma in questo momento non non ci preoccupa ovviamente noi questa operazione possiamo anche svolgerla direttamente all'interno del nostro componente quindi commentando nuovi nomi possiamo dire che noi vogliamo ritornare per avere un po di ordine nomi dotto ma non utilizziamo un ritorno implicito quindi non abbiamo bisogno di né di aprire la parentesi graffa né di specificare ritorno perché la roba non gestirà questa operazione per noi possiamo dire che vogliamo il nome salviamo e vediamo che otteniamo lo stesso identico risultato nella prossima lezione andremo a vedere come possiamo effettivamente lavorare con questo tipo di struttura dati che è sicuramente il tipo di struttura dati più comune che possiamo che possiamo ricevere classicamente magari da un di ai o da qualsiasi tipo di database con cui possiamo interagire vediamo finalmente come possiamo interagire con questo tipo di struttura di dati sicuramente il modo più più classico intanto eliminerò tutta questa serie di commenti di cui effettivamente hanno bisogno così come di questo array che era di solo per funzioni funzioni dimostrative troviamo anche questo troviamo anche questo andiamo quindi a passare attraverso il nostro array product ma vediamo un po che cosa effettivamente succede se ne prendiamo products dot ma prendiamo è solo per vedere un po quello che effettivamente succede facciamo un console dot log di l solo per giusto per per curiosità ovviamente città che non va bene perché dobbiamo avere un retorno statement quello che noi in questo momento andiamo a fare vedere effettivamente che cosa stiamo prendendo che cosa passiamo effettivamente al nostro prodotto vedete passiamo sotto il voce di l che possiamo denominare per chiarezza prodotto prodotto stiamo passando questo tipo di di voce con nient'altro che 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 ognuno dei singoli componenti ognuno dei singoli oggetti all'interno del nostro array quindi quello che noi dobbiamo andare a fare e passare ognuno di questi singoli elementi al nostro componente nostro componente dopodiché avrà scomporrà il nostro elemento quindi prenderà il nome il costo finale l'immagine e il prezzo e quale raggi fosse anche il città che non in questo caso non non avremo quindi andiamo a dire dichiarare che prodotto dot map prodotto per ogni prodotto presente nell'array products quello che dobbiamo fare è prodotto quindi il nostro componente a cui passiamo spread operator prodotto perché perché stiamo passando in questa maniera ad uno ad uno i valori che sono presenti nel nostro prodotto questo molto importante vedete adesso avremo sempre l'avvertimento che ogni elemento all'interno di una lista deve avere un proprio che i propri e poi dopo effettivamente nuovo il console log e mostrati i nostri prodotti vedete come con una riga di codice noi siamo in grado di ritornare con anche una grande lista di prodotti con una semplicissima linea di codice ma che togliamo il console log di come abbiamo bisogno e vedete che in questo momento abbiamo questo tipo di possibilità un altro modo più più semplice con cui possiamo appunto passare effettivamente prodotto al nostro componente è sicuramente può dirgli che prodotto uguale prodotto questo però ci porta a farsi con questo tipo di scomposizione in questo punto ma dovrò a rimettere passare di nuovo props e avere una destrutturazione nelle linee di codice successivo facendo attenzione al fatto che io non posso decomporre questo questo oggetto da direttamente la propria ma devo fare da props dot prodotto perché io non sto passando una semplice chiave ma sto passando al nostro props che props punto punto prodotto contiene ogni singolo di questi elementi quindi in questa maniera funziona per chiarezza andiamo con solo ad avere un console log di quello che è il nostro nostro oggetto props e vediamo un po quello che che succede ovviamente non ho salvato app lasciato e andando a vedere cosa contiene il nostro con solo una serie di oggetti che sono questo props punto prodotto e contiene questi elementi sicuramente è molto più diventa molto più più semplice il passaggio attraverso quello che lo spread operator che diventerà uno dei vostri più fidati amici in questo caso potrei scomporre semplicemente attraverso props questa volta salvo tutto insieme come vedete tutto rimane esattamente dove era 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 prima torniamo al tipo di organizzazione precedente che preferisco decisamente che vi consiglio di di apprendere e di mettere il più possibile in in atto perché mi semplifica davvero di molto le cose rende tutto molto più chiaro perché questo componente sappiamo che prende un'immagine un costo finale un nome un prezzo e quindi qualora lo vedessi anche volessi passare queste proprietà in maniera manuale so benissimo che cosa questo componente prende di cosa bisogno e guardando la struttura del codice posso vedere effettivamente cose necessarie cosa può essere anche non non passato o cosa devo andare a sostituire in questa lezione andremo a vedere quello che è il significato di questo avvertimento perché sia così importante fatto che ogni elemento ha ritornato dinamicamente attraverso un array abbia un suo proprio e unico attributo ok magari come prima cosa andiamo un po ad eliminare di elementi perché non sono così necessario che ce ne siano così tanti così che sia possibile vederli tutti contemporaneamente ma perché così importante fornire questo questo attributo al nostro componente che si si descrive semplicemente davanti al nostro componente secondo ok uguale aprendo le parentesi grazie perché siamo sempre in javascript e rientriamo da j6 da una scrittura j6 e qui possiamo fornire quello che è il nostro valore che deve essere unico come possiamo fare beh possiamo fare in due due maniere la più semplice diciamo non correttissime che comunque sconsiglio almeno che comunque non sia qualcosa di veramente semplice e prendere il parametro index dal nostro mappure e dire che l'attributo che corrisponde a adesso che index rappresenta la posizione del nostro elemento all'interno di un di un ray vedete adesso se facessi un ora della pagina non ho più questo errore il motivo per cui sconsiglio l'utilizzo di questa strategia chiamiamola così e perché questo valore dipende unicamente dalla posizione che l'elemento il nostro caso il prodotto a all'interno dell'array nel caso comunque ci fosse una redness e modificato ecco che questo valore cambia ed è poco mantenibile sul sul lungo percorso quindi sicuramente un metodo più più semplice più efficace e che è semplicemente aggiungere manualmente un id e in questa maniera non ho più nuovo l'avvertimento è anche qualora questo elemento venisse eliminato questo valore nel tempo rimarrebbe comunque stabile un altro modo per fare esattamente la stessa cosa e dire che cost è uguale prodotto per passare semplicemente ai di possiamo scomporre anche qua il nostro oggetto in questa posizione perché prodotto corrisponde a questa serie di valore quindi vado a fare la destrutturazione dell'oggetto prodotto in questo punto in cui mi è concesso la del javascript perché non sono più in jsex da qua fino a qua sono in puro javascript quindi posso fare questo tipo di di lavoro e dichiarare anche una nuova costante in questo punto perché al di fuori di questo scop questa costante non avrà nessun effetto nessuna validità quindi non causa un problema salvando io sono di nuovo sano e salvo ma perché così importante fornire questo questo attributo ok e che perché così importante che sia unico perché quando andremo comunque a mutare i nostri componenti questo l'attributo che i tirare act farà capire react quale deve essere aggiornato rispetto agli altri quindi si andasse a fare una modifica una manipolazione del dom in questo punto su su questo componente lui andrebbe a modificare solo unicamente questo componente che corrisponde al valore fondi attraverso l'attributo che i qualori io non fornissi questo attributo anche qualora cambiassi un unico elemento all'interno di questo componente ecco che react si vedrebbe costretto a fare un render di tutti i componenti e quindi a peggiorare le prestazioni comunque della nostra della nostra applicazione questo è molto importante parlando comunque di dati un'altra cosa che possiamo tranquillamente fare e togliere da questa sezione da questo punto da questo file quello che effettivamente sono i dati e semplicemente andare a creare un nuovo file che si chiama data anzi prodotto dot js e qua poi possiamo tranquillamente fare un export default del nostro del nostro array e andarlo di conseguenza a importare il nostro file è molto più coordinato vado a salvare non ho salvato da queste parti quindi c'è un problema ecco che siamo esattamente nella stessa condizione prima con un'organizzazione del file molto più semplice molto più ordinata che ci permette di non avere mille mille righe di codice in un unico in un unico punto in questa lezione andremo a vedere come effettivamente ci possiamo comportare con la gestione degli eventi perché in questo momento tutto bellissimo ma effettivamente non possiamo rispondere a nessun tipo di evento che effettivamente avviene all'interno della nostra applicazione non avendo ancora coperto quelli che sono gli state e la loro utilità quelle che sono gli eventi che andremo a gestire quelle che sono le funzioni che andremo a mostrare sono cose molto basilari saranno più degli alert dei console log ma l'importante vedere effettivamente quella che è la gestione degli eventi noi in questo momento qua abbiamo un un bottone ma nel caso comunque volessimo dare questo bottone una funzione seppur minimale però comunque una funzione ci sono diversi metodi con cui possiamo farlo e alcune restrizioni obbligatore che dobbiamo seguire la prima restrizione possiamo chiamarla obbligo che meno meno cattivo e quando andiamo a dichiarare che tipo di evento porterà a un'interazione con l'evento deve essere catturato dobbiamo utilizzare il camel case quindi un click con la c maiuscola dopodiché dobbiamo aprire le parentesi graffe e abbiamo diverse possibilità ovviamente la soluzione più basilari e definire la funzione direttamente in line quindi dichiariamo un arrow function semplicemente facciamo un alert bottone premuto quindi colora premessimo su questo bottone avremo un bottone premuto il bottone premuto e un bottone premuto senza niente di incredibile però diventa funzionale un secondo metodo e ovviamente utilizzarlo come reference quindi avere semplicemente riferimento un'altra funzione e quindi possiamo dire const click uguale la funzione cina dove diciamo questa volta log hai premuto mettiamola totalmente a caso sul sul nostro article anche se mettiamola sul sulla nostra immagine anche se non è ovviamente per l'accessibilità il best posto ever in cui mettere questa questa funzione però mettiamo under click visto che sarà un console log la console e andiamo a premere sulla nostra immagine e sbuca mi hai premuto ovviamente posso anche passare e accedere a quelli che sono le proprietà del mio componente facciamo un esempio molto semplice al posto di questa roba qua magari con lo sollo diamo nome 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 come punti template lisa rass e non morte sul bottoncino avrò non 10 euro amazon ok bravissimo nome maschera nei 50 pezzi potrò accedere anche agli elementi all'interno del mio singolo componente qualora avessi bisogno di passare dei parametri a ciò che vado a cliccare la la cosa si fa un po differente facciamo un altro bottone che copriamo da questo semplicemente senza impazzire che qua avrà alex e a cui passeremo una funzione che si chiama consta e prenderà un parametro che sarà il facciamo così prezzo e quello che fa semplice log prezzo nel caso io andassi a passarla direttamente la funzione si funzionerà ma funzionerà esattamente il momento in cui io vado a avere render dei miei componenti quindi se qua vado a dire params e gli passo prezzo a cui io posso ovviamente accedere volta che avrò il render vedete che avrò il log di tutti i prezzi che sono presenti sui miei componenti questo sicuramente non è di mio interesse il metodo per far sì che questo non avvenga è semplicemente dichiarare una function in modo che al meglio da render venga dichiarata la nostra funzione e qualora premessimo solo a quel punto ritornata la funzione desiderata che porta un parametro come adesso non c'è nessun render anche nel caso io ricaricarsi la pagina per dare un ulteriore dimostrazione non succederà niente e quando premo invece avrò il console di quello che è di mio gradimento continuo premere succede esattamente quello che dovrebbe succedere un altro caso davanti al quale ci possiamo trovare con frequenza è sicuramente quello di potere e di dover interagire con quello che è l'evento object che si può essere passato all'interno delle nostre funzioni per esempio cost in cui possiamo dirgli che passiamo nel classico oppure event oppure dipende un po da quelle che sono le vostre abitudini le vostre convenzioni andiamo la nostra function e diciamo i dot facciamo in i dot target dot in che per regola dovrebbe darci il doc di quello che effettivamente è il nostro il testo all'interno dell'elemento che andremo a rendere cliccabile posizioniamo la in questo bottone di nuovo e questa volta potrà essere passato direttamente senza il bisogno di fornire un parametro a toccare args e vedete che abbiamo a cax ovviamente qua dire alex perché c'è il nuovo args e via dicendo qualora invece avessimo il bisogno di passare anche un parametro alla nostra funzione che appunto poi andrà a gestire l'evento il metodo per farlo è abbastanza semplice ed è semplicemente richiando questo parametro come mettiamo magari price soprattutto che ritorni un'altra funzione che gestirà quello che è e poi abbiamo magari rice e quindi in questo caso avremo l'event handler che deve passare anche la test che in questo caso che prezzo args e 2.16 arx e 8 questi sono i principali metodi con i quali noi possiamo gestire i nostri eventi ovviamente non solo l'oncli che c'è sì o su sull'articola andasse mettere on mouse over e volesse avere un blog il nostro bellissimo come questo punto è quella qua il nostro bellissimo costo finale avevo mai passato costo finale che ogni volta che passerò sul mio articolo vedete che avrò effettivamente il mio il mio ritorno infinito di quello che il nostro costo finale quindi ricapitolando i metodi con i quali possiamo gestire i nostri eventi sono o la possibilità di scrivere direttamente in line la funzione di nostro interesse oppure passare il riferimento a una funzione come in questo caso e qualora avessimo il bisogno di passare un parametro alla funzione di riferimento dobbiamo dichiarare per forza un arrow function che ritorna la nostra funzione perché nel caso non lo facessimo appunto non appena avremo render della nostra pagina le funzioni verranno chiamate in automatico avremo a rendere automatico delle nostre funzioni con la funzione questo non avviene e solo qualora io vada a premere il tasto avrò ritorno qua 10.000 ritorno nel frattempo perché ho un event sul mouse over dell'intero article che rende tutto più difficile da capire ovviamente e nel caso avessi bisogno di passare anche un parametro nella funzione che mi permette di interagire con l'evento obiettivo non ho bisogno anche in questo caso di dichiarare una raw function perché con questo tipo di scrittura io sto già facendo questo tipo di sto già facendo implicitamente questo tipo di dichiarazione perché sto ritornando una funzione all'interno di un'altra funzione è tradotto magari in maniera più comprensibile questo tipo di scrittura altro significato non ha che copie un secondo questo perché tutto dovrà fargli fare la stessa cosa se che io andassi dichiarare una funzione function che posso chiamare prezzo pieno che prende appunto un argomento price e che ritorna una funzione che chiamo prova che prende come parametro i e poi qua dentro esattamente come questo tipo di azione si io qua vado a richiamare prezzo pieno pieno e gli passo pezzo disabito un secondo questa roba qua perché tanto non è che abbia chissà che utilità se non darci fastidio adesso io andassi a premere args avrei lo stesso tipo di risultato che avevo in precedenza con questo tipo di di scrittura l'ultimo argomento che vorrei trattare in questa brevissima serie e come possiamo comunque o stare in maniera molto semplice soprattutto gratuita qualsiasi nostro progetto per poterlo condividere con amici ma anche persone con cui stiamo imparando o vederlo effettivamente online la soluzione migliore è sicuramente quella di utilizzare nel file metri file è gratuito non vi richiederà nel momento in cui creerete il vostro account neanche di inserire la vostra carta di credito quindi sarete veramente sicuri che non vi verranno mai aggiunte spese che non avete richiesto una volta creato il vostro account sarete in grado di accedere adesso creato un account e avete 22 diversi due diversi modi con cui potete effettivamente pubblicare il vostro il vostro sito il primo è appunto col continuous deployment nel caso che non andremo a vedere adesso nel caso comunque aveste il vostro progetto caricato su su kitab oppure semplicemente potete andare a caricare il vostro sito andando nella finestra site qua come vedete avete questo drag and drop che ti permette di inserire manualmente la vostra cartella in questa in questa sezione per fare questo apriamo il nostro incredibile progetto chiudiamo il server che avevamo ancora aperto prima per vedere il nostro il nostro incredibile risultato e facciamo il nostro è in pieno rand verrà creata appunto una cartella chiamata e quando appunto questo processo sarà terminato quello che noi possiamo andare a fare che non deve fare per rendere pubblico il nostro lavoro è semplicemente il fatto di questa super finestra aprire il nostro progetto e prendere la cartella bid e lanciarla qua dentro una volta lanciata la nostra cartella dentro ci viene detto che il sito adesso disponibile a questo indirizzo qua possiamo andare a cambiare il nome del sito lo possiamo chiamare la prima app assoluta con pacca con react e dato anche un nome semplice da da ricordare una volta che l'abbiamo salvato l'interno abbiamo nessuno immaginante prima niente di di niente però qualora adesso appunto a questo indirizzo potete vedere che la nostra incredibile applicazione con le sue incredibili funzioni pazzesche sarà effettivamente un online questo è il mondo con cui comunque potete condividere il vostro lavoro con le persone a cui volete far vedere i vostri piccoli e incredibili progressi siamo giunti alla quarta sezione in cui finalmente andiamo a vedere nel dettaglio e iniziamo a imparare ad utilizzare quelli che sono più vedremo le loro regole quale la loro composizione il loro utilizzo e come combinandoli possiamo raggiungere risultati interessanti da creare delle applicazioni anche decisamente molto molto complesse per un'ultima volta andrò a ripassare quello che l'organizzazione del nostro progetto e come stiamo mostrando il nostro componente come li stiamo utilizzando tutto lo styling che vedrete sarà contenuto all'interno e pre compilato file index dot css che viene importato di conseguenza all'interno del file index dot j s che a sua volta importa il file non che il componente app all'interno del quale si troverà tutto il codice che noi andremo a scrivere tutti i componenti che noi andremo importare all'interno di questo stesso file app all'interno del file index dot j s dopodiché viene utilizzato il nostro componente app che viene passato come primo argomento al metodo react dom dot render che prende appunto il nostro componente app e lo ingetta all'interno del div con lady root che troviamo all'interno della nostra cartella public index dot html in cui noi possiamo anche andare a cambiare il nostro titolo e dove troviamo appunto il nostro root lady root qua scrivono magari lezioni lezioni avanzate salviamo vediamo già subito che abbiamo lezioni avanzate di già un primo a rirendere ora il nostro componente inizio che qua io ho importato all'interno direzione si trova come già spiegato in precedenza all'interno di search lezioni e poi avremo due cartelle inizio e risultato per confrontare le due cose semplicemente vi basterà importare appunto magari chiamando chiamando in un altro modo quindi risultato tenendo presente che potete dargli qualsiasi nome perché sono tutti in export di forte che permette di nominare il file che si importa al momento dell'importo come desideriamo all'interno del nostro del file in cui stiamo importando lo chiameremo risultato risultato ok e andremo a mettere qua il risultato ed ecco che troveremo a confronto da dove inizieremo e dove arriveremo possiamo eliminare il nostro risultato togliere l'importo del nostro risultato e procedere con il nostro lavoro e iniziare finalmente la prima lezione quindi andiamo all'interno del file di nostro interesse inizio errore base punto 1 in questa lezione andremo a vedere come look di cui parleremo successivamente ci può tornare utile perché così importante perché ne abbiamo bisogno un esempio molto banale ma che ci torna utile nel capire l'importanza sicuramente quello di provare a modificare un elemento all'interno del don quindi dichiariamo una variabile di nome titolo chiameremo il classico l'ho world è una funzione cambia titolo altro scopo non ha che modificare la variabile uguale mi partito l'anglismo titolo nuovo titolo blog basta scusate ma solo l'anglismo stasera dopo di che andiamo un po a lavorare su quello che è il nostro componente innanzitutto per evitare quello che la famosa zuppa di div andremo a dichiarare utilizzare un react fragment e vi ricordo che può anche essere scritto esattamente in questa maniera e non ci sarà nessuno nessun problema può essere anche scritto appunto è abbreviato così per essere più chiari io lo manterrò scritto per esteso la cui utilità principale e l'utilizzo principale è quello sia di evitare che tutto sia chiamato e inserito all'interno di un div creando diciamo una struttura sintattica di html poco leggibile ma soprattutto perché i nostri componenti non possono ritornare elementi multipli quindi non potrebbero ritorno non potrei ritornare senza un fragment comunque incapsulando il tutto all'interno di un div quello che sto provando di tornare adesso ovvero inserire il titolo la variabile titolo e sotto separato un button con una precisa funzione questo senza react fragment non potrei farlo o comunque dovrei far sì che venga ritornato unicamente all'interno di un div in questa maniera questo non succede e posso ritornare in maniera separata dichiariamo il nostro bottone quindi type uguale button che è una cosa non obbligatoria diamogli una classe che è btn con btn info m y3 perché io cerco utilizzare anche delle bootstrap all'interno del mio progetto perché rende tutto molto più semplice mi velocizza molto mi permette di scrivere meno css possibile è solo questione di styling e all'interno scriviamo il classico change questa volta l'anglismo è corretta dopodiché avremo appunto il render del nostro componente che sarà quello che avevamo visto nel nostro risultato finale ora andiamo a passare una funzione dandole un riferimento quindi un click event il canale case importantissimo apriamo le graffe perché siamo all'interno del gsx dobbiamo tornare in javascript e passiamo lì il nostro cambia titolo magari scriviamo lo giusto non cambia titolo titolo la domanda che vi pongo secondo voi nel momento in cui io andrò a cambiare avrò una modifica dom proviamo come vedete non c'è stato nessun cambiamento però la cosa più interessante è che all'interno del nostro console il titolo adesso ha un altro valore e questo e questo è molto interessante non notiamo nessun cambiamento perché avremo bisogno di fare un altro render del nostro componente quindi aggiornare il nostro componente così che a questo valore corrisponde effettivamente dovrà che a tutti gli effetti corrisponde adesso a alla variabile titolo il secondo problema di questa metodologia che non ci permette in nessun modo di tenere traccia di questa variabile ed è qua che viene in soccorso l'utilizzo degli state e di conseguenza del primo che andremo a modificare in modo che questo stato venga mutato ma soprattutto di tenere traccia dello stato che viene mutato perché in questo momento oltre a non poter avere un render in conseguenza al fatto di avere modificato il componente non possiamo in nessuna maniera a tenere traccia dello stato di questo componente e questo ovviamente diventa problematico dopo aver capito di che cosa abbiamo bisogno e perché ne abbiamo bisogno andiamo effettivamente a vedere come possiamo raggiungere il risultato da noi sperato desiderato più che sperato quindi cambiamo il componente che importiamo e chiamiamo sempre inizio perché sono tutti export default non mi stancherò mai dirlo possiamo chiamarlo possiamo non cambiare il nome mantenere sempre lo stesso nome e importare un file diverso quindi dopo inizio slash non portiamo 22 state basi salviamo vedrete che avremo diverso rendere del nostro componente basi state e io state proprio il nome del dello state di cui abbiamo bisogno e con cui inizieremo a conoscere i vantaggi dell'utilizzo dei react books la prima cosa da fare e importare il nostro state quindi possiamo aprire le graffe anzi dobbiamo aprire le grappe perché stiamo andando a per formare quello che è un name import in cui il nome che utilizziamo per importare è importantissimo state e il nome di ciò di cui abbiamo bisogno andiamo subito a vedere che cos'è state in maniera molto molto pratica puliamo un attimo la console perché quello era un console vecchio è la prima cosa che andiamo a fare e console lugare lo use state c'è un po i campioni e diciamo che consta log uguale console e come ben avrete capito questa è una destrutturazione e abbiamo estratto il metodo log dal dall oggetto console e ora per avere un console che ci basterà semplicemente scrivere blog è quello che vogliamo console locale e vogliamo con solo gare usa state in questa maniera vediamo un po che cosa effettivamente e vediamo che è una funzione un po complicata non semplicissima e che cosa ritorna invece lo use state state come potete vedere ritorna un array un array che presenterà il primo valore andy find e il secondo una funzione perché andy find perché nel momento in cui definiamo il nostro use state quello che dobbiamo fare è andare a dargli un valore di partenza che può essere qualsiasi cosa può essere una stringa può essere un oggetto può essere un array può essere un numero può essere una variabile booleana può essere nulla può essere andy find può essere tutto quello che vogliamo in questo caso noi andremo ad assegnarli il nostro è lo world due dei puntati esclamativi e andremo a salvare e vediamo subito che adesso il nostro io state ci ritorna effettivamente è lo world come primo parametro del suo rei è una funzione con secondo parametro del nostro array andiamo un po a scomporre effettivamente quello che è lo use state quindi possiamo dire che consta valo è uguale news state di 0 e consta handler è uguale a news state di 1 possiamo eliminare questa questo primo con sul blog e vedere un po che cosa che cose di cosa effettivamente siano i singoli termini quindi con solo chiamo valore e antler e vediamo che nel dettaglio ci troviamo di fronte a un parametro and find ea questa funzione in poche parole questa funzione e ciò che controlla il valore questa funzione e ciò che controlla questo valore perciò visto che possiamo scomporlo in questa maniera replichiamo la stessa azione che abbiamo fatto con il nostro blog con il nostro state ora andiamo effettivamente a dichiarare il nostro state magari questo qua lo cancello questa cosa qua che era solo un po per fare lo sborone questo magari lo metto a posto lo semplifico e questa roba qua magari la commentiamo non la cancello perché la lascia un po come riferimento che sicuramente male non non fa e andiamo a dichiarare il nostro primo è vero è proprio use state e come si dichiara si dichiara semplicemente destrutturando quello che io state sappiamo destrutturare l'oggetto perché non possiamo destrutturare un array quindi facciamo cost titolo che quindi è il nostro valore e per il secondo parametro che è la funzione che gestisce il nostro valore per convenzione si nomina sempre con set più il nome che avete dato appunto al primo parametro con in questo caso set titolo però potete chiamarlo come volete potete chiamarlo zaino e foglio bianco questi due elementi questi due argomenti non c'è nessun problema uguale a il nostro rei ovvero più state che parte da con due puntazzi esclamativi e quindi a questo punto abbiamo il nostro state in nostro salvando questa incredibile pagina volevo salvare il nostro file ora andiamo un po a descrivere il nostro componente quindi replichiamo la struttura precedente utilizziamo react fragment questa volta lo utilizziamo in questa maniera quindi con l'abbreviazione e diciamo qua abbiamo titolo e qua abbiamo un bottone un atto con type uguale button class name la stessa class name prima per dargli un po di styling btn info le vogliono anche un po di ombra questa volta shadow m y 3 che altro non fa che dargli del margine rispetto sia all'alto che al basso all'asse y inseriamo cambiami come testo e avremo il nostro bel bottoncino con il nostro bel titolo lo stesso schema di prima e adesso andiamo a performare il nostro primo cambio di state perciò diciamo che cost cambia titolo uguale in cui abbiamo set titolo a cui possiamo passare il nuovo valore che può essere qualsiasi valore quindi anche in questo caso 243 salviamo click cambia titolo se abbiamo ancora una volta e ora siamo pronti a prendere sul nostro state premiamo e abbiamo 243 ovviamente in questo momento siamo in grado di ottenere questo cambiamento in un'unica direzione quindi solo nel fatto di ottenere 243 nel caso appunto io ricaricarsi posso continuare a compiere questa quest'azione magari cambiamola con qualcosa di più interessante e più semplice magari con react magic facciamo così ora se cambio sbuccherà ovviamente dobbiamo ricaricare e adesso abbiamo un bel puntato esclamativo anche qua che non fa mai mare semplicemente per avere un ritorno un pelo più più dinamico quello che possiamo fare utilizzare un feste di dire il titolo uguale con i puntati esclamativi allora set titolo diventerà retto e gt els set titolo tornerà ad essere world e in questa maniera siamo totalmente in grado di performare un cambiamento nel dom ma anche di tenere traccia di quello che è il valore della nostra variabile e per formare dei cambi in maniera molto più molto più dinamica un aspetto molto importante e da tenere mente e che ogni volta che causiamo una modifica del nostro state questo causerà un nuovo rirender del componente aggiornando solo ciò però che ho bisogno di aggiornare infatti il nostro bottone non subirà nessun nuovo rirender al contrario del testo descritto da hello world oppure da react magic e questo ci permette di ottenere un'ottimizzazione assoluta nel modo in cui manipoliamo il dom perché react ci permetterà di modificare e far sì che ciò che subisca un nuovo render sia solo effettivamente ciò che abbiamo bisogno che venga modificato prima di andare a vedere i successivi hook e di proseguire nel nostro percorso alla scoperta dei vantaggi e delle potenzialità di react andiamo a esplorare un attimo un paio di regole importantissime per utilizzarli in maniera corretta non ho voluto darvele prima perché penso che penso che fosse più importante darvi prova di che cosa stessimo utilizzando e poi cercare di spiegarvi quelle che sono le regole così che capiate il perché non è perché siano importanti e a che cosa servono senza prenderlo come dogma che uno le vede poi se devi ricordare la prima regola è che tutti gli uc devono devono iniziare con us anche quelli che creeremo noi in maniera personalizzata perché poi andremo anche a creare da soli i nostri lux e questo è importantissimo ricordatevi che un look deve sempre iniziare con us questo è importantissimo per utilizzare un react hook dobbiamo per forza nominare il nostro componente ponente in cui lo usiamo deve essere per forza con la prima lettera maiuscola deve avere prima lettera maiuscola se ad esempio io andassi a chiamare questo uso base e esportarsi come uso base con la minuscola come vedete otterrò un un errore che descrive esattamente quello che io vi ho appena detto ovvero che un react hook in questo caso io state è stato chiamato all'interno di una funzione uso base che non è né un componente e nemmeno un react hook personalizzato quindi torniamo a dargli una bella lettera maiuscola e come vedete tutto tornerà a funzionare in maniera splendida gli uc devono essere chiamati all'interno o del corpo della no del nostro componente o comunque all'interno del nostro luke devono essere luke così scritti così luke devono essere chiamati all'interno del nostro componente che sia nella parte funzionale o che sia nella o nel corpo del nostro componente questo perché nel caso io provassi a portarlo fuori lo vedete non questo non funziona mi segnala già qua un un errore e mi dice esattamente che non può essere chiamato al di fuori di un di un componente che portiamo lo riportiamo il nostro il nostro hook a casa e dichiariamo quindi è dentro il body che cazzo dice ogni tanto si 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 impalle esplode quando vedete errori strani incredibili prima di fare qualsiasi cosa prima di impazzire provate sempre a ricaricare la la vostra pagina perché alcune volte come tutto si bagga stavo scrivendo che luke luke skywalk devono essere chiamati all'interno corpo del componente perfetto un'altra regola è che non posso dichiarare del look in maniera condizionale ovvero non potrei dichiarare il mio conste title set title uguale agli state all'interno di uniti statement ma niente mi vieta di utilizzarmi la parte funzionale come abbiamo fatto con set titolo c'è questo esempio ve lo porto proprio avanti con una truc perché è proprio il caso classico con cui può succedere questo e per cui uno potrebbe sentire la necessità l'esigenza di performare un if statement e di conseguenza quell'if magari chiamare l'utilizzo di un un reato sappiate che questo non può essere fatto in questa terza lezione andremo a vedere che cosa ci permette di fare uno state che ha come primo parametro che ha diciamo come valore iniziale un re e come possiamo sfruttare questo a nostro vantaggio partiamo subito vedendo quello che è il risultato finale che otterremo così da spiegare un po meglio effettivamente quello che che andremo a fare partiamo da risultato slash new state array otteniamo appunto che render di quattro semplicissime card contenenti una stringa e un bottone sul quale premendo possiamo eliminare quello che è effettivamente un elemento da dal nostro render come possiamo ottenere questo risultato andiamo subito a vederlo cambiamo importiamo questo senza cambiare così facciamo prima inizio inizio in zizzo inizio ok e andiamo subito ad aprire il file sul quale lavoreremo i più attenti avranno fatto caso al fatto che abbia aggiunto un file di nome con dei dati al suo interno che contengono tutti i dati che effettivamente andremo ad utilizzare durante queste nostre lezioni quello che noi andremo ad importare è esattamente questo arredi oggetti che contiene un id e un nome ci accorgiamo di essere di fronte a un export un emed export non un expert default quindi dobbiamo stare attenti al nome che utilizzeremo nel momento di import che deve essere deve corrispondere esattamente a ciò che vogliamo importare from noi siamo inizio gli state elezioni quindi sarà dot dot che ricordo che vuol dire spostarsi indietro di una cartella dot dot ancora una cartella dot dot ancora una cartella e poi nel file data da questo file noi vogliamo importare semplicemente data dopodiché avremo bisogno di importare il nostro news state e dichiarare subito il nostro state iniziale quindi possiamo dire const apriamo le parentesi quadre e mettiamo i pol 7 people quale appiuso state che gli passiamo come state iniziale come valore iniziale data perciò con solo gando people otteniamo quello che è esattamente il nostro state ovvero il nostro arredi oggetti in cui ogni oggetto noi di un nome con una chiave no una chiave nemmeno nome scusatemi con associata una stringa ricordando le lezioni precedenti quello che possiamo sicuramente fare e avere un render dinamico utilizzando il mappi metodo su un array in questo caso il nostro rei altro non è che people quindi andiamo subito a eliminare questo h3 apriamo le parentesi grass e diciamo che people dot in cui ci prendiamo il nostro elemento scomponiamo il nostro elemento quindi prendiamo distrutturiamo il nostro elemento dico sempre scomponiamo ma voglio sempre dire distrutturiamo e di name uguale poiché stiamo passando attraverso ognuno di questi elementi contenuti all'interno dell'array data che è stato utilizzato come valore di partenza del nostro state people in questa maniera quindi stiamo destrutturando tutti questi singoli elementi nel momento in cui passiamo attraverso di loro apriamo parentesi e diciamo importantissimo ok haiti a cui assegniamo che avrà un valore unico una classe che sarà item a cui aggiungeremo un po di ombretta un h5 all'interno del quale utilizzeremo la nostra variabile name e sotto un bel bottoncino un classico bottone type button class name anzi no class name class name ok button si button button delete button ok mettiamo semplicemente una x per piccrizia perché non ho voglia di mettere un icona chiudiamo il button che vuol dire salviamo lo vedete abbiamo ottenuto il nostro il render del nostro delle nostre persone ovviamente adesso premendo sul bottone non succede niente di niente ma questo non è assolutamente un problema al momento facciamo sì che adesso possa succedere effettivamente qualcosa quindi dichiariamo una funzione che ci permetta di rimuovere al click l'elemento che ci interessa rimuovere come facciamo dichiariamo const remuov e diciamo che è necessario prendere un parametro ottenere un parametro quindi al di voi che dichiariamo una variabile let people uguale a people che è il nostro state dot filter che è un metodo che accetta un predicato e altro un predicato non è se non una condizione che va rispettata la applica a tutti gli elementi presenti all'interno dell'array e quando questa condizione è soddisfatta quell'elemento viene ritornato perciò noi diciamo no people uguale people dot filter elemento e la nostra condizione è che la id del nostro array quindi del nostro elemento dot id sia diverso dalla id che noi passiamo come parametro quindi new people sarà composto da tutti quei valori in cui lei di non corrisponderà al parametro che noi passiamo quindi si operiamo qua lei di diana non soddisferà questa questa condizione quindi non verrà ritornato tutti questi la soddisfone quando viene soddisfatta la condizione l'elemento all'interno del nostro array viene ritornato in un nuovo array che quindi è composto da tutti gli elementi che soddisfano quella condizione e quindi noi a questo punto cosa possiamo fare set people uguale new people passiamo la nostra funzione al nostro bottoncino e diciamo che un clic apriamo la graffa e mi raccomando abbiamo bisogno di passare un parametro alla nostra funzione perciò dobbiamo dichiarare un arrow function e che questa arrow function poi chiamerà la nostra funzione e li passiamo il nostro ai di anche chiuso questa finestra così un pochino più più chiaro e a questo punto ci basta e i nostri elementi verranno rimossi in maniera dinamica quindi facciamo un veloce e semplice ricapiti quello che abbiamo fatto abbiamo importato il nostro array di oggetti dal file data dot j s che si trova nella route del nostro progetto che è composto da quattro oggetti che hanno tutti una id e una chiave nemico non associato una stringa dopodiché abbiamo dichiarato state che come valore iniziale appunto presentava l'array di oggetti da noi importato abbiamo utilizzato il nostro state per generare dinamicamente i nostri item le nostre card dopodiché abbiamo dichiarato un arrow function remov item che accetta un parametro in questo caso una id in cui dichiariamo una nuova variabile new people che a partire dal nostro state iniziale quindi people applica il metodo filter che passa una condizione ed applica quella condizione a tutti gli elementi presenti all'interno del dell'array e quando la condizione viene soddisfatta l'elemento viene ritornato e quindi crea un nuovo array in questa maniera dopodiché imposta come nuovo valore dello state attraverso la funzione set people la variabile new people adesso andremo a vedere come possiamo effettivamente lavorare con un oggetto quando questo oggetto è il valore di partenza o comunque è un valore che interessa il nostro news state perciò importiamo il file sul quale andremo a lavorare chiudiamo il file che non ci interessa più e apriamo il nostro bellissimo file come prima cosa andiamo ad importare il nostro state dopodiché iniziamo a capire per che dovremmo aver bisogno di utilizzare effettivamente un oggetto perché ci potrebbe essere dei casi in cui comunque abbiamo degli elementi che sono racchiudibili e ci conviene racchiudere all'interno di un oggetto se ad esempio avessimo e dovessimo descrivere una persona ecco che non farlo attraverso un oggetto diventa abbastanza ridondante qualora comunque avessimo più istanze dello stesso tipo quindi avessimo più persone e provassimo a descriverle scrivendo in maniera singolare ognuna delle loro proprietà ecco che ci troveremo con un codice poco mantenibile e con tante 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 funzioni per mantenere questi stati ma facciamo subito un esempio pratico perciò immaginiamo di descrivere una persona che ha un nome che set uguale state dario lo chiameremo dario dopodiché nera pigrizia andrò a copiare questi valori e tiro set dirò age e quindi set age parte da 24 e const saluto uguale state ciao come vedete già è sicuramente poco intuitiva questo tipo di descrizione di una persona ma andiamo a vedere effettivamente poi a che cosa ci porterebbe questo tipo di organizzazione tanto ritorniamo un componente che sia più 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 interessante perciò prendiamo questo div diamogli una classe quindi class name uguale item shadow se non trovate la classe shadow tutte le classi che non trovate all'interno il file pre compilato si è stessi sono shadow aggiunge semplicemente dell'ombra al nostro componente al nostro elemento dopodiché inseriamo magari leviamoci questo dichiariamo un altro div all'interno dichiariamo un h5 che a class name class name uguale x5 con dentro nei un altro h5 con dentro age un h6 un pochino più piccolino h6 con dentro il suo super saluto dopodiché aggiungiamo qua sotto una bella button 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 con class name di button che semplicemente cambia il saluto ok a questo punto abbiamo la nostra semplicissima un semplicissimo item quando premo come solito non succede assolutamente niente andiamo a cambiare il nostro saluto con una bella funzione quindi facciamo prima fare così magari un click uguale cambia saluto richiediamo la funzione consta cambia saluto uguale un altro function che che prende nessun parametro pur che diciamo 7 saluto abbiamo nostra funzione premiamo e cambiamo nostro saluto ma mettiamo caso che oggi sia il compleanno di daario e quindi dario oggi non solo cambia il suo saluto ma compie anche gli anni quindi ciao ho fatto gli anni set aggiornato nostro componente e ricarichiamo così che abbiamo il nostro bel ciao oggi dario compie gli anni e ciao ho fatto gli anni e adesso 25 anni come vedete sono obbligato a chiamare due funzioni e o un'organizzazione per descrivere un'unica entità unica istanza non ottimale ma se provassimo a racchiudere questo in un oggetto soprattutto delle funzioni che non vengono utilizzate tranne in casi particolari e questo sicuramente non è mai un bene perché ho la dichiarazione di una funzione di cui effettivamente non per forza o necessità di utilizzare e avere variabili o funzioni dichiarate non utilizzate non è mai ovviamente una best practice quindi andiamo a cambiare quello che è la descrizione della persona dario in uno state descritto da un oggetto quindi commentiamo questo commentiamo magari anche questo di effettivamente non ho più bisogno ok e andiamo a descrivere dario in maniera più ottimale ma diciamo che abbiamo const person e set person uguale news state che ha come valore iniziale un oggetto e questo oggetto ha un name che è dario se qua lo vedete poi con la lettera maiuscola semplicemente perché nel css o il capitalize per questo per questo item infatti anche qua tutto e maiuscolo non succede niente di di magico e di strano poi age 24 e saluto ciao questo è il nostro nuovo state ora andiamo ad aggiornare questi queste tre variabili dove abbiamo person dotto ognuno di quei valori salviamo è in questo momento abbiamo il nostro state che è esattamente come 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 prima ora andiamo modificare il nostro state variando l'oggetto per far compiere gli anni a dario quindi quello che devo fare e mi verrebbe da quindi set person perciò semplicemente vado quindi set person ripasso oggetto il tico il co age 25 saluto ciao ho fatto gli anni salvo e come vedete ho ottenuto la modifica del mio oggetto ma ho perso una delle mie chiavi non ho più la chiave dario ma come faccio a non avere più questo problema ecco che lo spread operator torna il nostro aiuto perché uno degli altri casi di utilizzo della spread operator è quello di fare una copia di un oggetto o un array o comunque di tutta quella serie di oggetti in javascript che sono iterabili quindi vado a copiare verso ea modificare poi le chiavi che voglio modificare quindi a questo punto salvo ricarico la pagina perché ormai dario l'ho perso ho bisogno di ricaricare la mia pagina di forzare il ricaricamento della mia pagina e a questo punto cambio il salute come vedete ho mantenuto il mio state nel caso appunto con piste solo gli anni senza andare a salutarci perché richiamo la mia pagina e io variassi solo age in questa maniera ecco che ho solo variato lento che ho bisogno di variare come vedete l'oggetto e in realtà è un ottimo metodo per descrivere i nostri state anche qualora avessi ad esempio in maniera molto semplice una classica filter bar che filtra per dei campi quindi magari prezzo categoria colore disponibilità o spedizione un'unica filter bar quel tipo di filter bar potrei descriverla con un oggetto in modo che io abbia sempre uno state che contenuto in un oggetto e che sia molto più semplice da aggiornare senza dover chiamare e avere 4 5 6 funzioni per aggiornare un qualcosa che effettivamente è un'unica entità questo mi permette di avere un'unica funzione in grado di aggiornare più valori di mio interesse in maniera comunque molto molto semplice e molto molto intuitiva l'importante è inserire sempre sempre il nostro precedente state qualora stessimo parlando di un oggetto o un array in cui vogliamo modificare solo un elemento la cosa più importante è quella di passare sempre il nostro precedente state con lo spread operator in modo che faccia una copia dei valori di tutti i valori per poi decidere quello che di fondare a modificare perché nel caso appunto io non passassi come in questo caso person da adesso il mio oggetto non conterrebbe più né tantomeno dario né tantomeno saluto infatti aggiornando ottengo solo più 25 e questo sicuramente non è mi interesse perché perdo completamente alcune alcune dei miei punti chiave ciò che approfondiremo in questa lezione in particolare nella prossima sono i vari metodi di utilizzo che possiamo con cui possiamo utilizzare il nostro secondo parametro che ci viene appunto restituito da dagli state fino a questo momento abbiamo utilizzato solo un uno dei metodi andiamo a scoprire quando e perché così importante poter utilizzare il secondo vero un retorno funzionale per fare questo bisogno appunto di creare prima un contatore quindi il nostro retorno andiamo a dichiarare delle delle classi che sono lo specifico bg white che darà un background shadow che darà dell'ombra round che lo renderà a quei bordi belli tondini come piacciono a tutti un y di 5 per dargli un po di padding v 75 per dargli una una larghezza del 75 per cento un col 6 per dire che occuperà rispetto a una divisione dello schermo dello spazio disponibile in 12 colonne ne occuperà 6 e offset 3 per dire che non partirà dal lato sinistro ma partirà tre colonne avanti rispetto alle 12 quindi parte della terza colonna prenderà sei colonne e rimarranno poi altre tre per un totale di 12 io quello che sto usando qua è semplicemente del basic bootstrap ma lo sto utilizzando semplicemente per velocizzare il processo di scrittura e non metti mi scrivere troppo css che non mi sembra così importante dopo di che poi quando andremo a realizzare effettivamente i progetti o li non utilizzerò assolutamente bootstrap in nessun modo perché appunto per chi non lo conoscesse quando poi andiamo ad avere un progetto un pochino più ampio ecco che avere su tutto un progetto un concetto non conosciuto a tutti non mi sembra sicuramente una scelta corretta soprattutto l'editizia nell'apprendimento di tutti quanti quindi lì utilizzerò solo css pre compilato che mi fornino oppure degli sterile the components che è un argomento che andremo a toccare sicuramente più avanti ora richiediamo un altro un altro libro comunque cercherò di spiegarvi effettivamente quello che vado a dichiarare con uno dei giustrati spiego cosa sto facendo in questo caso richiediamo di flex che utilizza flex box sul sul nostro live giusti fai content between dopo di che chiudiamo il nostro team andiamo a inserirci dentro un bel fatto con class name quale button e poi m y 2 per dargli un po di margin sia sia top che bottom dopodiché chiudiamolo e copriamo e inseriamoci diminuisce in questa in questo bottone siamo diminuisce non siamo c diminuisce dopodiché pura pigrizia andiamo a a copiare e quindi dire aumenta sotto al di fuori di questo div mettiamo un altro bottone che si chiamava bot button con la classe di button e reset button che avrà appunto resta ok dovremmo avere tutto perfetto ritorniamo il nostro componente vediamo un po che cosa abbiamo combinato perfetto ecco che il nostro componente ha preso forma argomento non in grado di svolgere alcuna funzione ma adesso andremo a realizzarle sarò cercherò di essere il più spirito possibile perché comunque sono tutti aspetti che abbiamo già visti e sono aspetti necessari appunto per far sì che arriviamo al punto di interesse ma anche per fare appunto un ripasso generale si dichiariamo subito costo reset per la nostra funzione di setting in cui diciamo che appunto abbiamo un set contatore 0 questa è la funzione reset dopodiché sul nostro diminuisce la faremo in line che un click arrow function avremo set contatore contatore meno 1 ok mentre per il nostro aumenta utilizzeremo l'altro metodo appunto di definire e utilizzare il nostro set contatore ma comunque il secondo parametro restituito da lo you state quindi diremo cost aumenta uguale come sto vendo uguale è semplicemente sarà rappresentato e all'interno dichiareremo set contatore e set contatore prende un parametro che rappresenta lo stato attuale prima di essere modificato del nostro state dello state che comanda quindi diciamo magari lo chiamo old value ed è un metodo funzionale quindi ritornare qualcosa noi senza sapere né leggere né scrivere facciamo return old value ma prima di fare questo facciamo console dot log old vale perché effettivamente che cosa questo valore rappresenta quindi se ne adesso andiamo su aumenta diciamo magari anche su resetta facciamo un click uguale abbiamo le parentesi per il primo punto mettiamo aumenta e per il secondo mettiamo reset che continuiamo di sta scrivendo la stessa cosa che trovate nel file finale no perché io nel file finale ho dichiarato un'altra funzione che adesso prenderò e lascerò commentata ok saldiamo e vediamo un po che cosa combiniamo andiamo subito vedere la cosa più più interessante la cosa più banale è ovviamente il nostro diminuisce che porterà il nostro contatore a meno uno e reset che porterà il conto a 0 mentre aumenta che in questo momento non fa nient'altro che mantenere il valore identico vediamo che valore mantiene molto molto semplice questo momento 0 nel caso appunto diminuissimo meno 5 quindi nel caso che facessimo valore più 1 semplicemente stiamo aumentando il nostro valore di 1 a non appena avremo il rendere premere su menta avremo questa volta oltre meno 4 4 3 meno 3 questo può essere molto utile ad esempio se io volessi dichiarare un if statement e dire semplicemente if old value più 1 uguale 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 5 return old value se no valore più 1 quindi una volta che il nostro valore se aggiungendo 1 diventerà 5 lui rimarrà fermo e immobile a 4 1 2 3 4 ecco che non va assolutamente avanti questo perché questo perché questa condizione non permette che questo succeda non è necessario dichiarare utilizzare l'else perché una volta che una funzione utilizza retor tutto il codice al di sotto di quel retor non viene eseguito questa è una situazione molto interessante molto semplice ad esempio per impedire che magari la gestione di un prodotto che una persona possa inserire da nello stock e il fatto di volere meno 5 prodotti che non è sicuramente possibile e che non possa magari scendere sotto una quota limite quindi magari se il nostro limite che vogliamo appunto è il massimo poter prendere cinque prodotti che inventare ne avessimo solo 4 questo è un ottimo modo per non permettere magari insieme all'utilizzo di un error la gestione di un errore con hai superato il limite massimo di massimo e 5 nei già in inventario 4 ordinare massimo 4 è un ottimo modo di gestire le situazioni limite almeno sul lato front end quindi come vedete abbiamo due tipologie di di metodo con cui possiamo utilizzare set contatore a qualsiasi questo vale per qualsiasi funzione che sia la funzione regolatrice che mi mola così del nostro del del di uno state ha la possibilità di utilizzare sia un reto un return valore ovvero questo in cui si assegna direttamente un valore sia appunto un reto funzionale in cui si utilizza una funzione per ritornare effettivamente il valore di norma e utilizzato il return funzionale perché appunto come vedete permette un tipo di gestione però il mio consiglio di utilizzarlo quando effettivamente necessario per un tipo di situazione come questa non è assolutamente necessario anche comunque non avessimo nessun vincolo nessun tipo di gestione che volessimo avere anche una situazione di questo tipo effettivamente è efficiente ma nella lezione successiva vedremo una casistica in cui è veramente obbligato ad utilizzare questo metto per ottenere un buon risultato ripartiamo esattamente da dove ci siamo lasciati e andiamo a esplorare ancora di più il retorno funzionale per vedere effettivamente in che situazione efficace perché di norma e preferito rispetto al valore turn per prima cosa mi riallineo con quello che effettivamente è il file finale quindi diciamo sblocco questo tipo di di situazione e vado a dichiarare a utilizzare qua il team contatore richiude la parentesi siamo tutti amici come prima mettiamo caso però che volessimo che il nostro valore aumentasse dopo due secondi dal click perché il nostro contatore funziona in questa maniera quindi il nostro quindi la nostra funzione di aumenta non funziona più in questa maniera che andiamo a commentare ma chiama 17 out al suo interno che abbiamo set out apriamo dichiariamo una funzione è questa funzione semplicemente quello che farà sarà fare 7 contatore 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 più uno e questo lo farà dopo 2000 e millisecondi quindi dopo due secondi vediamo che cosa succede andiamo a premere su aumenta passando i secondi e il nostro valore sarà aumentato a secondo voi cosa succederebbe se io cliccassi più di una volta su questo aumenta succederebbe che ho un aumento costante in base al numero di volte in cui ho cliccato oppure avrei un problema vediamo subito cosa succede adesso clicco un paio di volte tipo 10 e vedete che abbiamo l'aumento solo di una volta e questo ovviamente è un problema perché non tiene assolutamente traccia di quello che effettivamente è lo state e quindi un problema allora appunto un qualsiasi utente cliccasse 50 volte sul mio contatore ecco che in realtà aumenta solo di uno questo causa un problema anzi se continua a cliccare a questo punto aumenterà sarà di uno possibile utilizzare un time out e continuando a cliccare poi diventa funzionare funzionare non appena si smette di cliccare io non ho mai smesso di premere si si pianterà il nostro contatore mentre io premuto 550 volte di un mc non funziona perché c'è questo piccolo problemino sbagliato dovrebbe funzionare di un contatore ok ora funziona resettiamo ma come possiamo quindi tenere traccia del valore e aggiornarlo in maniera corretta ecco che in questo tipo di situazioni il funcione ritorna da il meglio di sé perciò ricordiamoci che possiamo utilizzare una funzione funzione che prende un parametro sarà old quando abbiamo interesse di avere un ritorno più 1 ecco che a questo punto se cliccassimo tante volte su menta quello che succederebbe che succederà è che dopo i due secondi e valore raggiungerà poi esattamente il numero di clic sono stati effettuati questo perché il function return si basa su quello che è il parametro corrente al momento del click non come il ball return su quello che effettivamente era il parametro il valore dello state nel momento del click dell'attivazione della funzione ovvero due secondi prima ovviamente tutte le funzioni tutti gli aggiornamenti di state possono essere gestiti in questa maniera per fare un esempio andiamo a prendere uno degli altri aggiornamenti di stato uno dei precedenti file dei presenti casi per dimostrare che si può appunto procedere in questa maniera andiamo ad esempio a prendere quello dell'array quindi nella nostra importiamo inizio che tanto ormai è stato aggiornato 3 news state arrey salviamo ora avremo il nostro array chiudiamo la barra laterale e vi dimostro che questa funzione può essere totalmente realizzata all'interno del nostro set people quindi commentiamo questa funzione diciamo che hold people return people dot filter è il lotto ai di diverso da ai di momento in cui salviamo nel momento in cui andiamo a premere sul nostro bottone vedete che la funzione continua a funzionare quindi dipende molto dalle dalle situazioni in generale il mio consiglio e quando andate a inserire un valore che è fisso che quindi non si basa sul valore precedente allora utilizzate un aggiornamento di stato di tipo valore quindi un valore retorno quindi sappiamo che premendo su quel tasto il valore che assumerà quella determinata cosa non dipende in nessuna maniera dallo stato dal valore precedente quindi che sarà 55 a prescindere che 3 4 74 diventerà 55 premendo lì allora utilizzate tranquillamente un valore mentre nel caso in cui appunto il vostro aggiornamento di stato dipendesse in qualche maniera dal valore del posto state attuale quindi avete un più 15 34 meno 5 ma comunque c'è una relazione tra il prossimo aggiornamento e lo stato attuale utilizzate un funzione al retorno perché vi dà una garanzia video una sicurezza in più e di offre poi tutta una serie di possibilità di gestione di situazioni casistiche casi limite che il valore tor ovviamente non non vita eccoci alla sezione dedicata ai progetti che andremo ad affrontare man mano che proseguiamo e avanziamo durante durante il corso che così appunto come la teoria gode di una ripo totalmente dedicata ad essi in cui troverete tutto già preimpostato in modo che non dobbiate metterti almeno che non vogliate e volendo magari per i primi progetti fino a quando comunque non è così complessa l'organizzazione impostare tutto tutti i file andare a cancellare ciò che non ci interessa rimuovere quei file che non sono di nostro interesse così come l'impostazione generale e la scrittura soprattutto dello styling oppure la creazione di quelli che sono in maniera molto semplice molto artigianale effettivamente fino a quando ci serviranno quegli array di oggetti che contengono i nostri dati attraverso i quali possiamo utilizzare i nostri componenti in questo momento c'è solo un progetto perché li sto sviluppando man mano che registro il corso in modo da avere sempre ben presente a che punto ci troviamo e così da darvi subito in maniera concreta degli approfondimenti dei piccoli consigli in base a quelli che sono i progetti e alle situazioni in cui ci andremo ad infilare così come per la teoria semplicemente quello che dovrete fare sarà arrivare a questa ripo e o clonarla oppure scaricare lo zip vi ricordo che qualora colonia del progetto è importantissimo che voi rimuoviate l'inizializzazione che punta alla mia alla mia ripo così da togliere la cartella git ed inserirla così da poterlo caricare su all'interno del vostro profilo tra le vostre ripo e non che puntino alla mia quindi adesso io vado a scaricare lo zip la scarico sul mio del desktop la verrà scaricata sull'altro monitor giustamente a dispetto ok ecco il nostro zip scaricato il nostro zip andiamo ad aprire lo zip e ad estrarne il contenuto mettendolo sul nostro desktop ci metterà zero secondi dopodiché andiamo ad aprirlo con il nostro visual studio code ovviamente quando voi aprirete questo progetto sarà completamente pieno di diverse cartelle che necessità solo appuntamenti ma anche poi il secondo il terzo il quarto il quinto il sesto progetto con all'interno così come per la teoria un impostazione dedicata all'inizio con già tutto un setup preimposato su cui lavoreremo e una con il risultato finale e la prima cosa da fare qualora veste appunto clonato la ripo è quella di andare a cancellare la cartella appunto git e volendo potreste reinizializzare un'altra che punti ad una vostra ripo presente su github così da non puntare più alla all'amico allora invece avesse scaricato lo zip la prima cosa a fare semplicemente e chiamare ampi e mista all'interno della cartella di inizio o anche del risultato colore al vostro scopo fosse vedere direttamente il risultato finale quindi apriamo la sua terminale spostarci all'interno di inizio quindi dobbiamo digitare cd appuntamenti flash inizio spostandoci dopodiché npm install in questa maniera installeremo tutte le dependencies di cui avremo bisogno per far funzionare in maniera corretta il nostro progetto terminata l'installazione semplicemente npm start solo in piena start che lancerà il nostro la nostra react app che non ha assolutamente fatto ma adesso lo farà ed eccoci all'interno del nostro primo progetto andiamo subito ad esplorare la struttura di questo nostro progetto troverete una cartella di search nella quale lavoreremo con già tutti gli import e l'impostazione necessaria un file index dot css magari tutto per terminare gigantesco già totalmente preimpostato che una palette colori che come scoprirete durante il corso su un amante della modalità notturna lo schermo bianco mi distrugge la prima cosa magari da fare è rendere questo leggibile ma non è così fondamentale che si lega questa scritta gigante app all'inizio lo styling è molto basilare servirà semplicemente a far sì che tutto prenda forma in maniera decente dopodiché c'è un file data dot j s che contiene semplicemente un arredo oggetti che utilizzeremo durante questo nostro primo progetto e poi il componente list dot j s con scritto per per osna sbagliato e poi il classico file app dot j s con già degli import effettuati questo perché poi adesso inizialmente sono sono pochi ma poi diventrano veramente molti gli import e fidatevi che mi ringrazierete per aver già avuto tutta una un'impostazione a priori quindi iniziamo subito con il nostro primo progetto la prima cosa appunto che possiamo fare è quella di andare a importare il nostro il state che al momento è la cosa più interessante che abbiamo visto quindi apriamo le parentesi graffe dall'imposte che stiamo facendo un eme di port from re act perché importiamo direttamente da re act andiamo a dichiarare quello che sarà il nostro il nostro state ovvero people e set people set people e lo assegniamo a la re di oggetti che abbiamo appena importato perciò in questo momento il nostro state contiene questa serie di oggetti che hanno tutti noi di nome uno stato e un'immagine andiamo subito a vedere che cosa il valore del nostro state facendo console dot log e consolidiamo il nostro state people vediamo che cosa otteniamo dalla console abbiamo una re di 5 valori che contiene appunto tutto ciò che c'è in data dot j s che possiamo da qua a chiudere perché non ci interessa dopodiché eliminiamo questa roba inguardabile e sostituiamo con una bella section magari section con dentro con class name container dentro ci mettiamo il nostro h2 con style con dell'inline style che quindi mi ricordo apriamo le parentesi graffe comunichiamo di ritornare all'interno di javascript dobbiamo passarli un oggetto quindi riapriamo le parentesi graffe perché la prima riapertura non ha non serve a comunicare un oggetto ma la il passaggio a scrivere del javascript e visto che siamo in javascript cosa molto importante coloro volessimo passare delle proprietà che in css hanno la divisione data da appunto il trattino non esiste perché siamo in javascript quindi dobbiamo passare quel camille case quindi sarà font size col s maiuscola a noi non interessa questo passiamo di un color così che sia leggibile il secondo parametro deve essere sempre una stringa e la cosa molto importante da farvi vedere in questo momento è che anche passando il nostro stile in questa maniera possiamo accedere a quelle che sono le variabili che dichiariamo nel nostro css in questo caso io vi andrò a passare come colore il bar bg bg color quindi non sostiene completato e dentro ci mettiamo prossimi incontri salviamo ovviamente questa cosa non ha minimamente funzionato perché bg blu scusate ma ho avuto un piccolo problemino perché la variabile si chiama abg non c'è niente di incredibile tra le cose che ho fatto aggiungiamo un po di altro styling quindi un altro div con all'interno con la class name data da people list e dentro più politici andiamo a mettere il nostro componente che al momento sarà vuoto al momento sarà vuoto perché non contiene niente ma mettiamoli qua lista perché sennò ci ritorna un errore in questa maniera e andiamo qua a salvare con in questo momento avremo il nostro componente list in quella in quella posizione e poi avremo bisogno di un altro link che contenga noi facciamo un po prima quindi btn gruppo che contiene quindi abbiamo dichiarato dei bottoni che hanno il reload è il secondo bottone a all questo bottone qua non è un video normale ma è un btn rosetta e questo qua come potete immaginare un btn d'elite d'elite il giocatore la juventus troviamo e abbiamo i nostri due bei bottoncini con le loro incredibili funzioni per lo styling vi chiedo scusa ma purtroppo non sono un designer faccio faccio quello che 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 posso la nostra nostra struttura generale e completa andiamo quindi a lavorare sul nostro componente il list dot j s aveva un nostro componente vediamo subito che non c'è solo il componente list ma all'interno abbiamo un altro componente dichiarato cost person definito cost person se quando installate il progetto avete nel vostro terminale problems 2 e indica questa serie di avvertimenti e perché ci sono appunto delle variabili e delle costanti che non sono utilizzate che sono semplicemente importati come appunto person come prima era data come era prima list e tutto quello che ho importato che hanno utilizzato per impostazione iniziale non è assolutamente un problema non succede niente ma andiamo lavorare sul nostro componente list quindi la prima cosa da fare è passare al nostro componente list effettivamente il nostro arredi oggetti quindi diciamo che data data è uguale a per accedere a quelli che sono effettivamente gli oggetti l'arredi oggetti passato al nostro componente list inseriamo come parametro props quindi facciamo un console dot log di props e vedremo che avremo un oggetto con la chiave data apriamo abbiamo un oggetto con la chiave data tutta questa serie di array console log e perché non ho tolto questo console log di cui adesso ci sbarazziamo perché non ci serve assolutamente più questo che abbiamo già l'altro e va benissimo quindi facciamo un reloj per avere il nostro console dopo a sotto vedete abbiamo un oggetto che come unica chiave data a cui corrisponde il nostro parley di oggetti quindi a questo punto andiamo a iterare il nostro array di di oggetti quindi abbiamo il nostro la nostra a nord at least apriamo le parentesi graffe dopo di che diciamo props dot data apriamo la parentesi tonda e andiamo a capo tenete presente che il metodo map deve sempre ritornare qualcosa avere un ritorno al suo interno e abbiamo due modi di ritornare quando utilizziamo un error function o metodo classico quindi che apriamo una parentesi graffa andiamo capo e poi diciamo return persona e avremo appunto cinque persone perché abbiamo cinque oggetti all'interno del nostro del nostro array oppure possiamo ottenere lo stesso risultato con il ritorno ritorno implicito che si ottiene semplicemente dicendo scrivendo direttamente in line direttamente dopo la raw function quello di cui abbiamo bisogno senza neanche aver bisogno di dichiarare e aprire parentesi graffe quindi persona porterà a ritornare cinque volte persona anche in questo caso come vedete l'importante è che sia in line quindi se io apro una parentesi tonda e poi vado a capo ma questa parentesi tonda e sulla stessa linea della raw function in questa maniera sto dichiarando un return diamo una classe la nostra a nord at least che equivale a user saldiamo un po di styling niente di più e dichiariamo quello che è il ritorno che noi vogliamo beh sicuramente essendo all'interno di una order list abbiamo bisogno di ritornare i nostri classici lì essendo all'interno di un oggetto la prima cosa che dobbiamo fare è sul primo elemento html che dichiariamo che conterrà il nostro ritorno l'elemento che ritorniamo dal nostro ma dobbiamo assolutamente dichiarare l'attributo ok e farlo corrispondere al nostro person dot e di che sarà saranno 12345 sono i valori contenuti in questo elemento dopodiché all'interno del nostro li metteremo il nostro componente persona person anzi che andiamo a chiudere che tornerà per rosna storto un article con dentro per rosna e andiamo a lavorare su quello che il nostro componente perso quindi per prima cosa passiamo delle proprietà e al nostro al nostro componente persone lo faremo con lo spread operator a cui passeremo semplicemente person con lo spread operator che vuol dire che stiamo passando i singoli le singole chiavi e valore associato come attributo e suo valore quindi il nostro componente person prenderà un id prenderà un nome prenderà uno stato e un'immagine e sarà composto da un articolo con all'interno un mg src prenderà la nostra img immagina la nostra mc alt person mc e associamoli class name mc se vogliamo non facciamo confusione mettiamo solo prs tanto una cosa importante in questo momento poi per accessibilità sarà importantissimo descrivono in maniera più corretta dopodiché ci servirà quindi sono info che avrà al suo interno person action con un h4 con il nostro nome un bottone bottone che a class name uguale mi tiene mi tiene il valore di al momento e sotto questa bella coppietta di amici avremo il nostro p con il suo bello stato in questo momento la nostra persona sarà organizzata in questa maniera ma andiamo subito vedere una cosa molto interessante praticamente il nostro componente a livello visivo in questo momento è effettivamente pronto non ci resta che andare a implementare l'aspetto funzionale del nostro componente ovvero far sì che sia possibile rimuovere ogni singolo appuntamento ricaricarlo pur rimuovere tutti con un tasto prima di passare a gestire l'aspetto funzionale andiamo a vedere una cosa molto importante è molto interessante livello di design devo vedere come possiamo utilizzare delle icone all'interno delle nostre react app per fare questo dovremo installare un package ovvero react icons è uno dei tanti package che andremo ad installare durante questo nostro durante questo nostro corso apriamo un nuovo tab all'interno del nostro terminale integrato rispostiamoci all'interno del nostro file di interesse quindi cd appuntamenti slash inizio e diamo il comando npm install react icons ma che cos'è react icon select icons semplicemente è una raccolta di tutte le icone che effettivamente possiamo utilizzare e mi viene quasi da dire immaginare come vedete qua avete una ricerca e possiamo scrivere ad esempio magari d'elite anche solo del e trovare effettivamente l'icona che fa per noi vedete quante tipologie dicono avete sbizzarrite vi trovate quella che più fa per voi per utilizzarlo ti basterà cliccare sull'icona di vostro interesse in nostro caso è questo lui la copierà dei vostri appunti ma le azioni sono tantissime e andremo nel nostro nel nostro file magari vediamo questa finestra che non ci serve chiudiamo questo terminale è quello che dobbiamo fare e import incolliamo from react icons slash slash praticamente l'iniziale che trovate davanti alla vostra icona rappresenta la cartella da cui effettivamente dobbiamo importare la nostra icona quindi questo caso sarà slash perfetto dopodiché queste icone altro non sono effettivamente che dei componenti quindi al posto del nostro remove andiamo a metterci il nostro r e se fosse un componente salviamo e avremo il posto del nostro remove effettivamente la nostra iconcina al quale possiamo assegnare anche delle classi cose che noi faremo class name e la dichiariamo come icon salviamo e a questo punto il nostro componente a tutti gli effetti pronto per essere utilizzato anche abbastanza carino secondo me il risultato di di questa icon sono semplicemente dell's vg che appunto si comportano come se fossero praticamente del testo e per ingrandirle bisogna dare del font size in colore sarà color e tutto quello che riguarda praticamente il testo per tanti aspetti ma a questo punto andiamo implementare l'aspetto funzionale del nostro componente per prima cosa creeremo quelle funzioni per cancellare tutti gli appuntamenti e quella per ripristinarli tutti quanti quindi andiamo nel bottone che di cancello tutti settiamo l'evento on click apriamo le parentesi graffe arrow function diciamo che set people è uguale ad un array vuoto perfetto proprio la nostra funzione set adesso non dire niente andiamo a ripristinare tutti i nostri appuntamenti questa volta lo faremo dichiarando una funzione quindi facciamo const lo ad spero si arriva così all item arro function e avremo set people lo senteremo a data quindi andiamo sul nostro bottone ho scritto con un click passiamo lì la nostra a funzionare all item salviamo ed ecco di nuovo tutti i nostri incredibili appuntamenti con francesco rabiola a cui piace la palestra sabrina cortelli grande musicista mike russell sportivo affermato rebecca orlando amante della fotografia e cristian minerva convinto vegano ma andiamo adesso a definire la funzione utile ad eliminare i componenti in maniera singolare quindi uno ad uno e come potete ben notare il componente che rappresenta ogni singolo appuntamento non solo non si trova direttamente all'interno di app ma è addirittura all'interno un altro componente e come possiamo fare per utilizzare questa funzione ai componenti possibile passare anche delle funzioni quindi dichiareremo la nostra funzione adesso ne facciamo una solo di prova in cui la chiamiamo remov item questa funzione al momento non fa niente tranne se non avere un console log log elimino ok non ci resta ora che passare la nostra funzione al nostro componente passiamo quindi remov item ma possiamo chiamarlo come vogliamo ripassiamo remov item andiamo in list che adesso all'interno del suo oggetto props non avrà più solo e unicamente il nostro array array di oggetti ma conterrà anche una funzione ovvero console log dot elimino quindi andiamo passare ancora più giù una nostra funzione per fare questo semplicemente passiamo oltre al nostro array di oggetti con lo spread operator passiamo lì il nostro corremoto item props e per andare a riprendere quello che è la nostra funzione intercettare chiamiamola così la nostra funzione nel nostro componente person altro non dobbiamo fare che aggiungere una bella virgola e dire questo perché perché noi qua non stiamo passando come abbiamo fatto con list gli argomenti in questa maniera ma con lo spread operator vuol dire che stiamo passando praticamente ai di uguale a person dot ai di nome uguale person dot nome e così alla fine aggiungiamo semplicemente un altro argomento in più che item uguale props dotter item quindi noi lo andiamo a intercettare in questa maniera quindi passiamo al nostro bottone al click un click il nostro bel item ora siamo effettivamente pronti a far funzionare la nostra funzione apriamo la console console loghiamo e vedete elimino per due per 3 e 4 e anche per 5 perché cristian minerva non sarà scambanza il primo che verrà eliminato ma andiamo ora ad implementare effettivamente questa funzione così che possiamo finalmente eliminare l'appuntamento con francesco roviola che hanno assolutamente voglia di di vederlo ma come possiamo fare questo evitare francesco roviola ci ci richiede di filtrare utilizzando il metodo filter il nostro state e ricordiamoci che possiamo farlo in due modi appunto con un return di tipo value di valore oppure possiamo utilizzare un retorno funzionale scusatemi un'assegnazione di valore al nostro state oppure con un return funzionale e noi utilizzeremo proprio questo non è necessario possiamo fare queste operazioni separate quindi prima filtrare il nostro oggetto il nostro array di oggetti e poi passarlo con un retto come passaggio di di valore al nostro state oppure possiamo farlo nell'altra maniera che adesso andremo ad effettuare quindi set people che può prendere un parametro che rapprende che appunto contiene il valore corrente quindi hold e quello che fa semplicemente questa funzione è quella di retorne in maniera esplicita hold vale dot filter vale dove vale dot id è diverso da id assegniamo il parametro di dalla nostra funzione e andiamo a salvare come vedete in questo momento la nostra funzione non funziona per un semplice motivo è perché non stiamo passando un haid al nostro alla nostra funzione quindi passiamoli ai di salviamo e come vedete abbiamo avuto l'eliminazione di tutti i nostri appuntamenti anche premendo su reload questa funzione non è che non funzioni e che ogni volta che abbiamo un render del nostro componente quindi ogni volta che un aggiornamento dello state quindi premendo in questa maniera la nostra funzione viene chiamata direttamente perciò passando un parametro quello che dobbiamo fare e non chiamarle in maniera diretta ma far sì che venga chiamata attraverso un altro function salviamo adesso andiamo a ricaricare i nostri utenti ora le abbiamo di nuovo tutti i nostri appuntamenti e finalmente eliminiamo francesco robiola dei nostri appuntamenti e ci vedremo solo più con rebecca orlando anche christian minerva va via spero che questo progetto vi sia piaciuto per quanto per quanto estremamente semplice e ci vediamo per ci vediamo al prossimo al prossimo progetto